Vai in diretta e ci dovrei essere... Allora, 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 allora Vediamo se arriva la notifica Nel mentre mi alzo un altro pochino il volume del microfono Così sono sicuro che mi sentite bene Ah, che ansia oggi, che ansia, che ansia Mamma mia ragazzi, che ansia Morirò, morirò subito Allora, aspetto che arrivi la notifica E dopodiché vi spiego che cosa facciamo quest'oggi Ciao Gaia e ciao Giovanni Che sono i primi due ad aver salutato quest'oggi E tra poco, non appena vedo un bel po' di gente Vi introduco quello che faremo quest'oggi Allora, la live sembra che sia partita E ci dovrei essere ufficialmente 1100 persone Non mi sembrano ancora i ciao nella chat da notifica arrivata Però prima o poi Prima o poi arriverà la notifica 1600 persone Ciao a tutti Buon pomeriggio Quest'oggi stiamo in compagnia di questo ragazzo qua Che però in questo momento sta avviando la sua live Quindi al momento sto un attimino aspettando Aspetto che arrivi la chat Eccola qui E' partita adesso la raffica Ciao ad Antriz Grazie mille per esserti abbonato E... Vi introduco cosa facciamo quest'oggi Lo inizio a dire adesso Poi vediamo se dovrò rispiegarlo varie volte Durante la live Praticamente serie di Minecraft Hardcore Cosa vuol dire Hardcore? Vuol dire che se muori una volta E' finita per sempre Non si può responare Non si può tornare in vita in questo mondo E l'obiettivo E' sopravvivere per 100 giorni di fila E sarà fatta su più live Quindi non la faremo tutta oggi E se ci riusciamo Arriviamo a 100 giorni Ed è il nostro obiettivo Se moriamo prima Moriremo prima Quindi l'obiettivo E' sopravvivere nell'hardcore 100 giorni Di Minecraft ragazzi Non 100 giorni della vita reale Quindi penso Mi pare che 100 giorni di Minecraft Siano 33 ore Quindi dovrebbero essere tipo 11 live Di Minecraft Hardcore Se riusciamo a sopravvivere Altrimenti saranno Saranno meno Sì Vatto Tommaso Venturelli 2 ore 29 Ciao 7 bellissimi Marci Friber Ciao Tommaso Grazie mille per la donazione Marci dovrebbe stare arrivando Anzi in realtà magari c'è già E sono io mutato No Ancora non Ancora non c'è Però inizio a smutarmi In modo tale che quando arriva Mi sente E non sono mutato Che sennò E' un disastro E come fate a calcolarli? Se tu premi F3D La riga Una delle penulce Tipo la quart'ultima riga Si chiama Local Difficulty 2.25 Slash slash Blah 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 Day 0 Ok Quello è il giorno di Minecraft Quindi siamo al giorno numero 0 E arriveremo fino al giorno numero 100 Adesso appena Marci arriva Facciamo un time set Sarà l'unico che si farà ovviamente Per tutta la serie Ma raga è in live Quindi lo vedrete anche voi E' molto facile Che ci servirà ovviamente a partire dall'alba Perché se partissimo Con il sole che sta già tramontando Capite bene Che in un hardcore Sarebbe veramente impossibile Comunque per chi se lo sta chiedendo Ci siamo invertiti io e Fere Quindi Fere va in live Su 2players 1console E io su tpoc Perché? Perché dovevo fare appunto Delle live di Minecraft Non ha minimamente senso Capite bene Non ha minimamente senso Che la faccio su 2players Quando ormai Minecraft Facciamo full su tpoc Quindi ci siamo Totalmente invertiti I canali Quindi li trovate per lì Allo Buongiorno Salve Ci siamo Siamo tutti carichi? Eh ho paura di morire Tutti aspettavano questo momento da una vita Ci siamo Ho un po' di ansia di morte Anch'io tantissimo Te lo giuro Allora Quando sei pronto Facciamo il day zero E si parte Ah ce l'hai Mi servirebbero Per iniziare Proprio in modo tecnico Grazie a stay away Per essere ti buonato Ci servirebbe Mi servirebbe Perché parlo al plurale Ok La color correction Mi sono dimenticato Che sono su Streamlabs E non su OBS Fa schifo Minecraft così Te la scrivo su Te la scrivo qua su TS Così almeno la copi Allora Allora Però devo fare tasto destro Filtro Poi premo il più E devo mettere La correzione colore Sì Aspetta che dove la trovo più Sì Ok trovata Ora ti dico Vai dettameli direttamente 0.35 0.35 0.22 Aspetta ho cercato la gente Oh no 0 No sto sbagliando Stanno vedendo delle cose Ok Poi il secondo 0.22 Ok 0.04 0.04 E 0.9 0.9 Vedremo Allo stesso modo Che bello Ma sai che mi sembra diversissimo Sì è stra diverso Minecraft No è diversissimo Da quella che uso di solito Ah Eh io ho questa 0.35 0.22 0.04 0.09 Aspetta forse ho sbagliato qualcosa Oh no Perché me la sono dimenticato Grazie Tristar Dopo ti saluto Sicuro che Quindi gamma 0.35 Sì Contrasto 0.22 Contrasto 0.22 E luminosità 0.04 Sì Saturazione 0.09 0.9 0.9 proprio Ah Ah Ok Risolto Possiamo partire Scusate Colpa mia Ok Facciamo il day zero Facciamo il day zero E sia un po' di ansietto Ovviamente raga Cioè Startiamo da esattamente adesso Ok Quindi tutto quello che è successo prima Non c'entra niente Esatto Eravamo fermi Quindi ovviamente siamo già a mezzogiorno E sarebbe uno svantaggio Quindi Guarda là Sto prendendo tutto fuoco Ho già paura Pam Ok È vero Perché prende fuoco È un brutto presagio Non lo so ma noi andiamo da un'altra parte Inizia ufficialmente Il giorno zero Della nostra bellissima hardcore Assolutamente Il giorno zero famosissimo Allora Sto leggendo un pochino Strategie Strategie Sei tu l'esperto Non perdiamo tempo Allora Dobbiamo assolutamente trovare un villaggio Cosa abbiamo i letti Abbiamo il pane Se troviamo quello con le balle di fieno E poi subito ferro Ma non dobbiamo Metterci subito in caverna Se non abbiamo il ferro Ok Ma vuoi ammazzare qualche animale Che abbiamo vicino O è inutile Ma sì possiamo anche farlo Perché vedo qualche pollo Ah possiamo farlo Ma io cercherei prima il villaggio Sai Tanto nella 1.16 Ne spawnano tantissimi Di villaggi Ok Allora Mi faccio fuori giusto due polli al volo Per poter dire C'è una sensazione Però ne vedo sempre di più Allora No secondo me sono di più Non lo so Se è una cosa confermata Ma secondo me sono di più E non trovo altri polli Li ho già persi Allora Andiamo verso l'alto Io ho perso te Consiglio Bene Sono qua Sono qua Aspetta che c'è un altro pollo Buongiorno pollo Dai manca un armo Che bel dioma ragazzi Forza 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 Dove sei? Sono qua sopra Sono sopra la montagna Ah eccoti Allora Prendo un po' di legno Ciao Ok Allora Prendo anche io legna E vedi qualcosa? Non ve Stef Eh? Sei caduto? Ho avuto paura No Come dire Non so se hai I cianca Ho visto adesso una casetta Perfetto Ok Stiamo a posto Non serve neanche uccidere gli animali Speriamo che sia quello con le barri di Sì 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 Quello con le barri di fieno Ok vabbè La prima parte Sarà easy Più o meno Insomma Chiamiamola easy Anche se non sarà easy Allora E Ponzi 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 Ok Fere non riesce A fare partire La chat nella live Perché Non ci funziona La chat di Fere Ma cosa ha combinato? Ah giù Vuoi stoppare un attimo? A me non va la live Quanti bitreta Mi dice che sono sbagliati Ma i settings Non può averli cambiati Solo perché ha cambiato canale Non so come c'è riuscita Allora Ti lascio Un po' di responsabilità Marci Allora chiuditi Chiuditi Esatto Annaggia Guarda che se muori Io mi sento male Vabbè Dentro la casa la vedo grigia O mica le metti rite in testa Farma come se non ci fosse un domani Anche per me Vai corri 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 Corro corri arrivo Allora Grazie a Tristar 75 Per i tre mesi Grazie a Xiao Per i tre mesi Grazie a Teo Turco Per i tre mesi Grazie mille ragazzi Questa sera vi faccio il lingottino Quando facciamo la Big Vanilla Adesso stiamo facendo questa serie E sarebbe un po' brutto Fermarsi per fare i lingottini Dai anche a me sembra molto simile Ragazzi È vero? Anche secondo me è simile Sono trip assurdo Allora intanto vi leggo Allora intanto vi leggo ragazzi Mass testare andiamo su youtube Si siamo Lui su youtube E io su twitch Attualmente Siamo Lui su youtube E io su twitch Ok Anche io voglio il lingotto Si si Questa sera faccio tutto Questa sera faccio tutto Non è un orario Consono per le tue live grazie Tristar ragazzi mi raccomando se avete il prime tranquillamente potete fare il prime sul mio... oh c'è un micino oddio lo voglio vieni qua micino non scappare ok io ho già un bel po' di legno di grano ragazzi questa cazzettina qui ok c'è il letto ottimo qui c'è il composter perfetto e anche abbastanza... questo buco comunque è super familiare ragazzi c'è stranissima come cosa per un altro po' di legno inizio a fare gli attrezzi base e via ragazzi e via il mio record di visual dove? su... su twitch dici? eravamo 4... quasi 5.000 ragazzi e per domani farai come sarà colpo... no Cristian questa sera ti permetto di non guardare la live se vuoi però oggi devi guardarla per forza adesso... adesso per forza facciamo una step farm raga adesso facciamo tutto appena torna a Steph che lo aiuta sono 100 geni di minecraft certo ragazzi certo vedete siamo al giorno zero in questo momento siamo a mezzogiorno dobbiamo stare un po' attenti in realtà non vorrei che Steph morisse quindi faccio subito crafting table faccio subito un po' di 2 ok ok 51 eh si ce l'hanno le bale di fieno ho capito ma così tante? eh si eh si ok va bene mi piace siamo messi bene anche perchè guarda c'è già una miniera che scende allora ascia piccone ok fai tutto il legno se vuoi aspetta e ti faccio tutta la pietra ma no vabbè no problem vabbè questa la lascio qui vengo anche io miniera direttamente ma che cavolo di buco strano ha sto villaggio eh sai che vabbè bellissimo prendi 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 l'hanno già scoperto? l'hanno già scoperto? quello che sappiamo? tutti l'hanno scoperto è stato uno spam esagerato ma perchè sei visto nel tuo app 1 da noi non sei mai visto questo però non diciamolo perchè mai qualcuno ancora non l'ha scoperto è una cosa carina secondo me è simpatica sì 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 allora è un hardcore ragazzi è un hardcore assolutamente sì prendiamo questo che non sappiamo quanto durerà l'obiettivo è 100 giorni che duri 100 giorni non si sa allora ci proviamo secondo me è l'inizio il difficile perchè dopo ci siamo specificiamo sempre perchè poi ci dimentichiamo 100 giorni di minecraft ragazzi che sono 33 ore della vita reale che faremo tipo in 10 live una roba del genere esatto certo allora bastoncini mi faccio gli utensili comunque tanto abbiamo i letti quindi la notte non rischiamo nulla ok guarda io prenderei proprio la casa grande che c'è qua doppia e porto la crafting table arrivo si porta crafting e tutto e sfrattiamo il villager no vabbè mi dissocio nel senso noi li vogliamo bene i villager lo buttiamo via ma lo possiamo anche far fuori no no lascia i poverini ok ma non ha neanche un letto sto qua no quello lì no te lo sto portando ma povero sei poverissimo ma e questo ci butta fuori adesso lo so già allora cioè li portiamo il letto e ci butta fuori dalla sua casa lo so già benissimo infatti ecco qua io ho i letti ne ho uno giallo e uno bianco bianco lo so che non ti piace però ecco magicamente te quello giallo eh e qua sono oh guarda sta uscendo da solo si dai vai fuori fuori dai su sei sicuro che vuoi ucciderlo non lo so che dici cioè un po' crudele però questo ci rompe le scatole basta togliere il lavoro se togli il lavoro in teoria lui adesso non ha più lavoro cerca qualcos'altro sbaglio vai 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 a cercare lavoro via via sì sì ho visto la bacheca sì 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 bravo 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 ok abbiamo già tutto qua eh e come facciamo per non farlo rientrare la notte perché non rientrerà in realtà potrebbe rientrare ma sai che cosa hai la crafting per caso sì te l'ho piazzata lì dietro facciamo no è nato è uscito un bambino è stanza no bimbo 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 no vai via dai ci manchi solo tu qua porca miseria cosa facciamo guarda così ma che ti uccide il golem raga non è vero devi fare anche l'altra parte ah no qua abbiamo la fence ok niente abbiamo anche il giardinetto ma guarda te che bella casa bello bello io faccio una roba che ci porta giù così facciamo una sorta di magazzino ok e dobbiamo prepararci per bene eh però abbiamo il problema bimbo cosa facciamo eh sì è tipo al piano di sopra io non ho visto niente nel caso allora cosa vuol dire che è tutto sfocato adesso c'è un nuovo problema vediamo mi fa fare tu 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 sto guardando il live aspetta ho la tua live stanno mentendo e si vede perfetto no? io vedo pubblicato addirittura qua c'è qualcosa che non va sul telefono che non è che tu abbia pubblicato non è vero che sei adesso sfocato che dite ragazzi ecco ecco appunto ah è vero un po' quando ti muovi e ma no ma perchè stanno streamando in due ragazze è normale non si vede così male ah va bene va bene allora richiediamo questa ho portato delle cose importanti ok cosa hai portato? una campana qua e una qua davvero sai che quando le ho viste prima dov'è che le porti in casa dopo? beh almeno le diamo allora ciao Mark e ciao Kendal ciao ciao dove siete? aspetta eh qua vediamo se è vero se mi stanno trollando ma quanto scrivete in chat? aspetta ve l'ho verificato allora Mark c'è e anche Kendal hanno scritto tutti Kendal impara a scriverlo sputtacchiotto se proprio lo vuoi nominare non è sputtacchio è sputtacchiotto quindi se lo vuoi nominare almeno zecca al nome altrimenti sembri tu ladro maledetto ok ci serve una fornacina che dice la riusciamo a fare si allora la faccio io la faccio io e dobbiamo far fuori il bambino io non volevo dirlo in live ammazza sto bambino dai basta mi dissocio allora fallo fuori tu così no 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 mi dissocio allora facile la vita tu 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 sei tu De Mark il ladro ma non c'è manco di Erox c'è un gattino bellissimo ti hai visto? non abbiamo manco una cesto in sto villaggio può essere no in qualche villaggio ci dovrebbe in qualche stanza dovrebbe esserci controllo ho trovato un altro letto giallo così ti posso copiare volendo ma lo lasciamo qui vediamo un pochino qua non c'è nulla io sto già facendo le torce per sotto sta tramontando il sole tra poco dobbiamo dormire assolutamente evitiamo proprio di morire per delle cavolate sì cioè piuttosto guarda mi muori da l'ender dragon va bene va bene no non ci andiamo ma noi non vogliamo morire qua io non voglio sconfiggere l'ender dragon non c'è bisogno di peppe non dirlo però lascialo scoprire anche agli altri allora ok è andato via il bambino ha 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 entra esci entra esci entra esci entra esci entra esci eh sì ma adesso l'ho bloccato ok possiamo già dormire eh penso di sì aspetta che provassi io ancora no ok chiamami quando si può così ora veloce veloce così non facciamo spawnare nulla no 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 ti prego per carità veloce 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 che fanno boh vabbè basta è un trend incredibile che sta facendo un sacco di gente ma in realtà nessuno lo fa in live quindi in realtà è rivisitato perché la gente ci fa un video lunghissimo è vero siamo prossimi che lo portano in live Kendall ha donato 5 euro potrebbe aver cambiato il nome di sputtacchio 8 in sputtacchio ma io non so che benefici ne trai nel fatto che la gente eh penserà che sei tu non è una buona idea guarda che i nostri fan sono matti eh guarda che bella faccia che scrive sputtacchiottino mi vogliono far tergherare ragazzi non conoscete sputtacchiotto il cecchino fate una brutta fine se lo sfidate allora ok guarda che sotto qua oh magari continui a aprire le porte ero io ero io ero io scusa ah ma c'è anche un c'è il bambino da qualche parte no 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 il bambino è fuori che cerca di rientrare assieme al padre ah ecco infatti c'è tutta la famiglia fuori allora c'è un po' di legno ma non voglio spaccare dalla casa nel mentre siamo assimili quanta gente c'hai? dicaci duemila noi siamo a 6200 al momento milliotto adesso è buio pesto qua si stai attento mi raccomando prendo del coal penso ce l'ho tutti io non mi sono mai fatto una pala ma la sto facendo adesso considero la prima volta nella vita? si ma così sotto sistemiamo per bene perchè l'acqua delle coltivazioni fluttua? perchè penso che ci sia la generazione se tu spacchi un blocco lì vicino cade poi ah che figo ciao ragazzi ciao per chi si è appena unito varrebbe la pena fare una casa lì stiamo facendo un hardcore di 100 giorni forse se non moriamo che varrebbe la pena fare una casa lì solo per sultare questo bug dello spawn che è fighissimo ah beh certo se vuoi andiamo lì non è un problema no 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 per ora abbiamo una bellissima casa la cambieremo al giorno 15 non ho cambiato il giorno allora come si fa? perchè io lascio scritto tutto il tempo il giorno in modo tale che loro sappiano a che giorno siamo e siamo ufficialmente al giorno 1 grandi progressi da queste parti non ci sono mob per fortuna guarda io ti dico no niente non ti dico niente ok va bene grazie stiamo facendo tutto relativamente bene adesso dobbiamo prendere il ferro sicuramente ragazzi l'hardcore è semplicemente una versione di minecraft dove se schiatti schiatti cioè noi non possiamo tornare in vita il nostro obiettivo è fare 100 giorni di minecraft dentro questo mondo ma non possiamo mai morire perchè se moriamo è finita appunto la serie che faremo tutta in live tutto qui nulla di particolare nulla di complesso cioè complesso lo è nel gameplay però il concetto che sta dietro a questa cosa è abbastanza semplice allora chiudiamo qui ho portato 19 di coal ma hai messo delle ceste sotto? sto facendo devo andare a prendere un po' di legno però guarda che è già tutto per bene ho visto mi piace mi piace faccio già qualche ceste che ho un pochino di legna e me ne escono forse tre sì 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 tre ceste finito tutta legna ma tre le ho fatte le volevi mettere in modo strategico le butto a caso no no bisogna essere anche bravi col design aspetta un attimino eh allora guarda te le lascio al centro e te le rispacchi va bene ma preferisci barra il preferisci? ma fai quello che vuoi guarda va bene l'importante è che ci siano le campanelle chi cavolo è che apre la porta? basta bimbo devi morire vieni dentro casa no no forza no dentro casa no vai così non mi vede il golem allora va bene anche da questa parte sta scappando a posto allora aspetta fai così aspetta fai così guarda invece che ucciderlo no 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 oh bello bello mi piace forse è ancora più crudele però eh così? no no così così esatto la chiudi bravissimo no non volevo buttare la gravel ma così lo sento a vita oh è vero no 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 allora buciamogli la gravel allora ne hai gravel? no ma l'andiamo a prendere dai ok aspetta vado un attimo a prendere la gravel cioè qua dobbiamo sistemare le cose eh c'è l'alterogenne? immagino di sì sì dovrebbe essere l'alterogenne spero non è ultra hardcore è hardcore normale non ultra sì 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 nell'ultra hardcore ti curi solo con le mele d'oro? esatto però noi non vogliamo curarci solo no no non c'è bisogno non c'è bisogno non sento questo bisogno interiore ti manca solo ti immagini che dobbiamo no ciao ma adesso ti racconto un aneddoto visto che siamo nelle hardcore io avevo iniziato un hardcore in live e ma tutto convinto sai cosa facevo? io cercavo l'oro per farmi le mele d'oro poi mi hanno detto ma guarda che puoi recuperare la vita mangiando normalmente e io vado ah quindi tu eri convinto che in generale le hardcore avessero quella roba? esatto ok beh ci sta eh confondersi un attimo in queste cose allora nel mentre 7500 persone quindi ciao io non so se è fair in questo momento in live spero di sì e mi dissocio da quello che sto facendo non senti nulla tu giusto Marci? sì sento qualcuno che sta morendo ma non mi sto facendo domande no 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 non è successo niente tranquillo ci sono anche dei blocchi di dirt che volano ok e qua è tutto finito non non c'è più nulla da vedere ripiazziamo un bel blocco di dirt per dimenticare ok e basta e fine allora allora facciamo così e continua sarebbe bello vedere del ferro abbastanza vicino non troppo lontano nella pozza di là dici che non c'è niente? nella pozza quella che scende secondo me sì il discorso è che facciamo che mi faccio un po' di torce facciamoci le torce bravissimo quindi prendiamo un po' di legna in più o se vuoi uccidiamo l'aeron golem ragazzi voi non avete visto nulla è ancora vivo lì sotto si è fatto una casa ok ma chi scusa? no nessuno ma infatti si 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 niente 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 fate il pavimento in ferro si no guarda tranquillo ma in diamante no diamante è troppo poco è l'obiettivo facciamo la farm di ferro come obiettivo va bene ok allora tacchete facciamo un po' di bastoncini direi che così può bastare si si neanche una è incredibile ah no forse in quella casa lì in basso è la doppia dovrebbe esserci una cesta lì o no forse c'è la la blast fornace infatti c'è la blast ottimo è questa cosa qui a che serve? dillo a chi non lo sa è quello che è la fornace che ti fa cuocere più velocemente i minerali ok ok non mi chiedere in italiano se ci fosse bella faccia mi direbbe si chiama in italiano così no no non vogliamo saperlo il nome italiano allora basta avanzare quando dice me la faccia aiuto stavo per cadere ok buongiorno non c'è nulla niente da questa parte io le le torce le ho anche fatte però non c'è nessuna galleria naturale mi sa che continua molto verso il basso forse questa no forse questa aspetta che controlliamo un po' mi raccomando trovi un pezzo di ferro lo cuociamo e facciamo subito lo scudo zero niente non ci sono giorno 1 1 giorno 1 perché si parte dal giorno 0 si ogni tanto ve lo faccio vedere quella f3 così lo potete vedere se no da step c'è scritto un po' il giorno in alto a sinistra ehm sto pensando se scavare da qui o se scavare totalmente da un'altra parte perché a fine nessuna galleria di queste continua e se scavassimo direttamente da sotto casa nostra può essere un'idea oppure cerchiamo un'altra galleria qui attorno alla fine che ora è abbastanza presto non è neanche mezzogiorno quindi eh il record degli spettatori di t-poc place non lo so raga in effetti su t-poc non abbiamo mai fatto chissà quali grandi numeri visto che sia stato nella premiere dei supereroi si però non è una live alla fine è una premiere ah proprio live dici non lo so allora non ne ho idea ciao francicoso ciao ma è da te invece che da me mi ha scritto su su no in realtà potrebbe essere anche da me solo che non avendocelo come moderatore in questo canale non vedo nulla no da me lo vedo perché abbonato in realtà allora qui niente ciao buddy tu 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 mi metterò due sette no vabbè dopo la racconto a Steph sta cosa la racconto più tardi però ok non so cosa sia eh neanche in sta montagna c'è nulla dai che noia mucca mi dispiace è tempo di schiatare cosa sto vedendo gk kitchen grazie per essere ti abbonato che succede ci sono tre villager che vogliono entrare in casa nostra e basta devo far fuori altra gente no no mi dissocio no ok mi dissocio non lo facciamo non lo facciamo sto prendendo un po' di bistecchine perché prima o poi finiremo il pane mi voglio prendere tanto legno te lo dico allora purtroppo anche sta caverna ragazzi è completamente inutile non c'è veramente un pezzino di ferro ma stai scherzando qui ci sono le api ah le api lasciate stare si beh direi ciao api eh altro call che comunque dai ci serve prima o poi quindi lo prendo va bene ok si il call il call è ferro dobbiamo prendere all'inizio dai ma le live le tenete è probabile che queste live rimangano visibili sì non ve lo garantisco cioè in realtà ci sono tutte ragazzi è solo che sono non in elenco le trovate dalle playlist però ehm non conoscete le playlist popopopopam io sto cercando di andare a cercare anche una caverna ma mi sa che vado col piano B e uh la ce n'è una la ce n'è una forse aspetta che devo dare un occhio beh io sto facendo un quantitativo di call che forse ci basta per tutti e cento i giorni dell'hardcore un botto di 7 e la mano call 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 no ragazzi l'inizio è difficile perchè poi comunque se siamo abbastanza armati bene dovrebbe essere abbastanza facile io ho ansia tipo sto facendo notte Steph eh di già mhm ma notte che lo hai già eh quasi arrivo evitiamo rischi non facciamo spawnare mob che non ci servono mi ricordo dove il villaggio ehm mi do le coordinate credo da questa parte vieni a 0,400 allora aspetta che controllo sono appena caduto no ti prego per favore è un problema diventa notte diventa notte e abbiamo il nostro primo problema mi dovevo portare un letto con me io lo sapevo ce l'ho e dormi aspetta 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 veloce veloce prima che rivino mob veloce andate via da questo posto via senti abbiamo i villager in casa veloce arrivano gli zombie no sopra 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 marci ci muoio eh io te lo dico no 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 sto dormendo sto dormendo non è ancora passata la giornata veloce veloce ok giorno 2 ce l'abbiamo i villager maledetti andatevi via primo rischio il primo rischio totalmente inutile arriva così a ciel sereno ragazzi veramente inutile giorno 2 buongiorno ci siamo eh dai buono 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 vado in quella caverna che ho visto io eh che ho visto una cavernina che era molto vicino al villaggio peraltro quindi ok è brutta sta caverna senti questo commento rifai la casa di steveffere in questa della big vanilla in questa serie si facile no no si infatti materiale soprattutto si si andiamo in due secondi lì nel nether allora marci eh scegli la buona la brutta notizia la cattiva subito eh sono in una di quelle caverne in cui può comparire un creeper da un momento all'altro no ti prego per favore sono in ansia anch'io anch'io una caverna con un creeper mi sa no è chiusa ho trovato una caverna chiusa steve col ferro vorrei dirti la stessa cosa ma la mia è bella aperta ci potrebbero entrare anche i piccioni da quanto è aperta io ho tre pezzi di ferro quattro pezzi di ferro ho i gabbiani ok non voglio morire non al giorno 2 perlomeno al giorno non lo ammazziamo il golem raga abbiamo è facile ma abbiamo porre di ucciderlo cioè di farci uccidere meglio di no si direi che sono rischi inutili che qua non vogliamo prendere abbiamo 100 giorni di fronte a noi da vivere allora allora sto rischiando un po' più del dovuto ma ti vedo mhm sei sotto lì tu si raga è lui? si si ho visto la tua scritta vuoi che ti faccia la scala che ti porti su? no no vabbè per ora non c'è nessuno è solo che qua si rischiava è un creeper davanti a me ti dico solo questo ok ok che adesso arriva da me e muoio senti io incomincio a fare la caverina che va da sotto casa nostra dai così meno poi da lì possiamo scendere con caldo e ho 22 di ferro mi torno assolutamente su direi che voglio tornare su ok e come mi lascio un segno di questo posto facciamo che faccio una colonna del genere che male e lasciamo anche una bella torcia ok ho lasciato il segno perché è una caverna che continuava quindi sembrava molto interessante ma non è il momento giusto siccome abbiamo fatto un sacco di ferro approfittiamone un attimo e poi ci pensiamo ad esplorarla che bel gattino vuoi venire a vivere con noi gattino? eh ce l'ha il pesce? no 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 pesce eh 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 mi ha grisato di brutto allora mi ha grisato da quanto non lo sentivo beh come opla qua si mettono in mezzo sempre le cose vecchie chiudiamo questo mangiamo un bel pezzo di pane oh ecco ti stai già rimando ma hai già presa la fornace quella bella? eh sì vai giù perfetto sta già cuocendo qua smoker blast furnace ok metto a fare tutto fai 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 tutto fai tutto io sai cosa faccio veramente intanto mettiamo una porta però sinceramente metto 26 di qua direttamente intanto son pieno eh deposito il resto qua eh utensili inutili li buttiamo qui come lo utilizziamo questo ferro? cioè ok lo scudo va bene fin lì ci arrivo facciamo anche facciamo anche una crafting sotto così ne abbiamo una sopra ragazzi nel mentre 8400 persone quindi ciao a tutti piccolo recap è un hardcore vuol dire che se moriamo una sola volta moriremo e ciao arrivederci cioè non si può tornare in vita in questo mondo ehm come funziona il nostro obiettivo è sopravvivere 100 giorni di minecraft sono circa 33 ore di gameplay e lo vogliamo fare tutto in live non oggi tutto di fila ovviamente però fare tante live come no in cui giochiamo questa hardcore e cerchiamo di arrivare a 100 giorni riuscirci però ovviamente non è super semplice grazie prego così abbiamo già questo poi direi che ci dobbiamo fare anche un bel piccone io farei prima le due chestplate eh si ci sta tieni qua una per te ok i picconi ce la facciamo a fare i picconi in ferro eh proprio facile ottimo così è ancora più comodo e quindi nulla siamo al giorno 2 di 100 e un hardcore e basta giorno 2 di 100 ragazzi basta questo per capire la difficoltà eccomi ciao 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 faccio i picconi sì secondo me è top almeno siamo tranquilli davide sacchelli grazie per esserti abbonato non tanto per prendere il diamond è tutto perché non lo troveremo così facilmente ma per essere più veloci è per non fare un piccone ogni 3 minuti che non c'ho tanta voglia ma io guarda per adesso per scendere quello in pietra comunque preferisco utilizzarlo eh sì almeno per scendere sì dai ci sta facciamo uno per uno dici o ci allarghiamo di due torce qua torce torce ce l'hai? sì tieni te ne butto un po' ok ottimo ok e poi mi sa che ne crafto un altro po' va intanto sono messo abbastanza bene facciamo così craftiamo tutte quelle che riesco e te ne metto dentro la ceste vai sì sì metti metti e comincio a scendere ne ho messo 32 lì ma cosa facciamo? andiamo verso io non andrei livello diamanti io già da qui inizierei a fare un po' di tunnel sinistra e destra per prendere il ferro sì sì primo obiettivo armatura full ferro assolutamente nel mentre 8300 persone ciao anche sono tanti eh per essere presto sì 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 no non sono per niente pochi sconfiggete l'ender dragon raga non lo so cioè vediamo in the future non è l'obiettivo l'obiettivo sono i 100 giorni a un certo punto ehm se troveremo tanto coraggio nella nostra vita magari lo facciamo però magari alla fine dai sì il giorno 100 sì esatto qui se moriamo l'abbiamo fatta la challenge il giorno 99 no porterebbe una sfiga che ne basta la metà proprio esatto tu 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 allora ok guarda quanta roba stef carbone coal tutto tutto io sto tornando nella caverna che avevo trovato prima va bene dai io proseguo qua qua ce l'ho la discesa comunque sì carbone continua a prenderne il carbone serve sempre quindi sì in un modo o nell'altro tanto serve è noioso da prendere però va fatto è vero è vero il duro lavoro qualcuno lo deve fare pi 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 la casa con calma raga adesso stiamo pensando in primis a equipaggiarci esatto perché se non siamo equipaggiati rischiamo di morire poi sì almeno se siamo full armatura ferro con scudo se trovi un creeper non è che stai rischiando chissà quanto esatto se stiamo nudi è un bel po' rischioso allora e non mi ricordo verso dove stavo trovando più ferro penso verso qua sì è qui che ho scavato di più quindi qui ho trovato un sacco di ferro e ce n'è altro questa caverna è veramente fortunata quindi morirò qui dentro c'è già scritto nella storia che morirò qua ok non che muovi due blu sto facendo le caverne fatte per bene perché ho paurissimo te lo giuro allora qui termina ok caverna chiuda da questo lato da questa parte avevo bucato io ma in realtà ma ok ma che cavolo di buco strano eh vabbè prendiamo il carbone anche da qui allora ragazzi è inutile che continuate a dire kendall 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 ci sono tanti sospetti per sputtachiotto kendall che noia mark poi non so perché molti sospettano di favij non ho capito come mai di favij si sono sospetta sempre si ma sono in tanti eh me lo dicono tantissimi ma guarda che tanto è stato favij però io ho controllato i video non c'è nulla che lo incrimina ok quindi non so perché parlano di favij come il ladro ma secondo me l'ha fatto off video il ladro eh te la butto lì io dico una cosa nel video prossimo nostro alla big vanilla noi abbiamo trovato un indizio abbastanza interessante e quindi il mio principale sospettato ce l'ho ben preciso e ho i miei pensieri a riguardo però uuuu marci l'ho trovato? penso che è qua vicino sì ci sono troppi mob come rumore non li vedo quindi dovrei bucare verso qualche lato e mi sa che non è una buona idea farlo quindi non lo farò no meglio di no però sappi che a me tenta sempre mi avvisi quando è notte? eh sì ma non posso vedere in realtà perché sono anche io in caverna ah magari è già notte in qualche modo guarda se no butta un letto e prova a dormire io non posso ok vado a prenderlo al letto guarda faccio prima perché tanto io ce l'ho con me quindi possiamo provare tipo ogni minutino a dormire finchè non ci fa dormire allora facciamo così è super giorno no forse siamo quasi a notte in val sì è quasi notte vado a prendere un altro letto così me lo porto giù anch'io ok eh che dici? sì no è la cosa migliore almeno non stiamo lì a tornare a casa ogni due secondi e continuo a trovare ferro in una quantità veramente indecente direi che stiamo avendo abbastanza fortuna su questa cosa eeeh tu 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 hai già preso almeno un mezzo cuore di danno? sì cadendo un sacco di volte ok io ho ancora zero eh eeeh guarda a parte pre-live che sono spawnati in alto e basta ma se vuoi la prossima 100 giorni che facciamo è la mezzo cuore mi sembra easy mi fa male il cuore ragazzi non so se voglio accettare questa cosa ma no è facile eh eeeh facilissimo ok eeeh va bene mi sa che si può già dormire eh sì provo no ancora no ok no ancora no eh però inizio a tornare verso casa perché ho finito completamente queste due miniere eeeh ho di nuovo 12 di ferro ma soprattutto 64 di carbone proprio una stack perfetta perfetta ok not bad quindi col carbone siamo messi bene per un bel po' di giorni allora dovrebbero essere 10 giorni cioè 10 giorni 10 live per completare 100 giorni di hardcore ragazzi esatto sì però in realtà io forse ho fatto il calcolo matematico senza dormire quindi dormendo forse sono meno di 33 ore è già è certo perché siamo già al giorno dobbiamo fare il giorno 3 tra poco e siamo solo a 39 minuti di live vedi quindi probabilmente sono tipo più forse 20 ore di live puoi dormire non lo so qualcosa del genere allora eeeh dormo è già la seconda volta che lo sa lo sa lo sa che non dormo sotto c'è che non dormo a casa ah io ho dormito sotto ho messo un letto sotto a casa 9000 persone ciao ciao a tutti ciao ciao io vorrei entrare in casa ma ci sono due villager qua allora se state cercando le campane non sono in questa casa sono in un'altra eh ho visto uno dei vicini rubare le campane e portarle lì e andate a controllare allora eeeh rieccomi metto a cuocere tutto il ferro e eeeh ci croftiamo altri pezzi di armatura eeeh si assolutamente qua ce ne sono ok comincio a fare si inizia a essere tantino eeeh tu cosa che hai? niente abbiamo solo ciaspete entrambi si si siamo tutti uguali ho posizionato un altro bel po' di carbone così poi se ti serve ce l'abbiamo mi sto sistemando un po' le cesta adesso guarda così siamo più ordinati 20 di cobblestone li porto qua questo deposito la derte me la tengo gambali perfetto beh iniziamo ad essere ben messi ok si si è vero metto un pochino di koala anche per cuocere un po' di bistecche che io nel dubbio le ho iniziato a fare ma non le utilizziamo se non per momenti più pericolosi esatto esatto perché ci danno un altro gen maggiore fatela a mezzo cuore raga ci fate male voi eh abbastanza puoi levare l'oscuro da fastidio ragazzi a me non da fastidio per non rischiare la vita allora stef il giorno 3 grazie ragazzi dovete ricordarmelo tutto il tempo perché è una cosa non facilissima da ricordare ma è molto comoda per voi per sapere a che punto siamo esatto 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 3 giorni che poi in realtà questo è il quarto perché si parte dal giorno 0 esatto la bistecche messa a cuocere questa trapdoor la posso anche buttare qua lo so cosa cosino ma non possiamo fare quella roba lì allora così ah sai cosa ci hanno proposto? vai la hardcore challenge 100 giorni vita condivisa questa non è male questa è carina questa è carina mi piace questa è carina ho sistemato le gesto per complicarvi vi piace complicarci la vita voi eh abbastanza vi divertite proprio ok i metti di Kendall fatti uno a te e uno a me iuppi ok ci mancano solo i piedini e siamo già full armor di ferro che raga è ottimo proprio incredibile eh sì io una delle prossime cose che dovrò fare è una spedizione per andare a cercare il bambù ovviamente altrimenti l'arco non è completa se non troviamo del bambù sappilo sì ma quando siamo magari messi un po' meglio che dici? sì dai ancora un po' ma in realtà non è che possiamo essere messi troppo meglio di così ci mancano stivaletti spada e dopodichè io sento gli spetri eh io vorrei provare ma vuoi andare insieme a vedere quel mineshaft? cioè potrebbe non esserlo si sentivano mob anche qua si sentono un bot di mob è qua a destra se vuoi possiamo anche andare direttamente qua sotto arrivo allora forse è troppo no dai troppo riscoso smettiamola non cerchiamo l'avventura prima del dovuto facciamo con calma tanto ci sarà il momento in cui dovremmo combattere ma non è oggi il giorno me l'ha detto Gandalf ma io non ho la spada in ferro però eh neanche io infatti aspettiamo ma dove diamo io sono? io li sento super vicini eh ma guarda che con i suoni di minecraft ogni volta è così eh si capisce mai allora buongiorno no basta basta Coal trovato ok super attento ti prego non facciamo scemenze marci eh io non ci sono sei lì da solo ho chiuso così possiamo andare solo verso di lì mamma mia ragazzi che ansia c'è della lava oh sto illuminando tipo tutto 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 oh bel creeper buongiorno no ti prego dove sei andato Steph tu? ok creeper fatto esplodere siamo in due cavalli super diverse vero? si si zombie ok è andato anche lui ok l'ho torcificata per bene questa zona ma quanti rumori brutti ho troppa ansia stiamo facendo oddio 3 zombie non togliere questa lava raga ok ok quanto avrei voluto una bella spada? eh adesso te la faccio ti prego stai attento eh ti prego no tranquillo ho appena fightato 4 zombie e un creeper io ho ancora 0 mostri lì c'è uno scheletro da qualche parte vedo il ferro che è quello che vorrei in questo momento grande stai 4 fuo bravissimo devi prendere spunto sempre dai miei tetti sono bellissimi i miei tetti ok uff com'è? eh scheletro bisogna sempre stare attenti agli scheletri vieni qua ok è finita la caverna ragazzi probabilmente e basta che c'è uno spawner c'è oh grazie paris del ride grazie mille parca miseria grazie mille bro non so se ci sono moderato aspetta mi muto te la fai una vita muori schiata prendo le ossa che ci servono ragazzi mi sta venendo un po' di ansietta anche a voi in questa miniera è la prima miniera non pacifica che trovo sai che io penso di aver mai fatto una hardcore lunga e quindi mi trovo in difficoltà estrema a fare queste cose ma si chiamassimo kendall sarebbe proprio un relax e anche bella faccia in realtà sì anche bella faccia mi sa però non siamo il tipo di canali che vanno in relax marty 7 eh sì marty 7 marty 5 euro oltre che riposo al lavoro e alla vita reale oggi sono in ferie anche da mod sì abbiamo switchato i cosi i canali e quindi effettivamente i moderatori sono switchati in automatico eh dovrei star lì a ripremere tutto ma in questo momento non mi passo dei bei momenti in questa vela miniera sento rumori ragazzi ok che male è bene perché non dici che è bene eh bravo loco grazie mille una zombie infocato eh sì 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 no li sento anch'io di qua oddio aspetta a che livello siamo 26 allora questa miniera è devastante è di quelle proprio giganti 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 quindi è bellissima da dove cavolo mi avete sparato una freccia da dove cavolo hai sparato la freccia ma è matto non lo vedo c'è uno scheletro guardone da qualche parte non so dove ma stai scherzando margine è un film horror ma io dovrebbe essere il conto che il minatore dovrebbe essere lì che cerca tutto invece io sono in caverne tranquillissime fammi controllare va è un film horror questo vuoi che vengo no c'è c'è uno scheletro che non so dov'è che ogni volta che mi metto a scavare mi sparo una freccia alle spalle mi manca e quindi vedo la freccia a fianco a me che cade boh vabbè è da qualche parte sappiamo soltanto questo quanto ferro altri 31 io basta ferro per ora non ne prendo più c'è coal scusami mi sono confuso non ne posso più creeperino creeperino non c'è più ed è esploso non mi piace questa zona no ho i primi mob basta basta è troppo sto rischiando veramente troppo qua tutto tutto coal devo uscire eccolo devo uscire devo uscire devo uscire perchè sono sotto una montagna tipo ma ragazzi è gigantesco sto posto ecco qua si sta per spaccare anche l'ascia aspetta un attimo vai scheletro contro zombie bravo zombie si 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 no dai vai chi vince chi vince guardalo chi vince prende il ferro bravo zombie sei morto mi dispiace allora ok continuo e non siamo al giorno 4 non abbiamo dormito giusto? no 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 giorno 3 ok però credo che siamo lì lì per dover dormire forse in realtà è anche già notte hai provato a piazzare un letto? no perchè sono sto salendo salgo adesso guardami un secondo Steph che salgo adesso ok perchè sotto di me c'era un botto di giro no da fuori vedo ancora della luce però secondo me siamo lì lì per per far tramontare nessuno la light vision raga in questa qua che bella la mia vita la no danno challenge come si fa ragazzi è impossibile la no danno è veramente no vabbè ma la mezzo cuore guarda che è la no danno eh vabbè certo hai ragione hai ragione io avevo fatto sei episodi ma eravamo proprio barricati in casa e come sei schiattato mi pare un non un ride ma quasi c'è nel senso che arrivavano costantemente i pillager quelli con la palestra non dirai mamma mia il ride no il ride no il ride no il ride non lo gestiamo così eh no no ma non succederà tranquillo no allora scendo 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 sto portando a casa altri 21 di ferro ok quindi direi che ufficialmente possiamo fare spada in ferro eccetera eccetera buono 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 va bene io senti vado giù di nuovo perché ho trovato una cavernina carina occhio che dobbiamo dormire però eh senti mi porto giù il letto ancora no eh guarda possiamo dormire se aspetti possiamo dormire tra 20 secondi eh ma non si può ancora dormire eh si si ma vedo sole 20 secondi allora a tempo che scendo ci sono ok eri morto da uno scheletro ma dove però ragazzi ma guarda che io uguale eh io uguale Stati io sono più capace di morire tramite uno scheletro che non riesco a gestirli con scudo spada scudo spada piuttosto che da altra lo dico tranquillamente dai potevi essere il nostro no ma vai al diavolo ancora non si può dormire ho detto ci prendiamo un lupo così abbiamo il primo animale della compagnia sei ossa niente ci ho buttato sei ossa per lui inutilmente allora villager o ti togli o ti togli o ti togli o ti togli o t'ammazzo o t'ammazzo non si può ancora dormire ma perché vogliono tutti andare in casa nostra che noiosi dormo si può dormire se uno di noi muore e finisce se sì arrivo subito sta finito che ho prendo tutti i due pezzi di carbone ti ha fatto un imboscato e uno scheletro nel mezzo cuore ti ha colpito uno scheletro da dietro un blocco poi sei scelto dove c'erano 22 creeper ok è vero è vero è vero mi sono ricordato adesso come sono morto mi sono ricordato quando ci saranno le live della big vanilla dalla prossima settimana e quelle saranno le uniche live in cui ci saremo sia io che ferie assieme quindi quelle le faremo tutti e due assieme poi se marcio ci vuole essere facciamo le lezioni di building si facciamo le lezioni di building a fare ti prego allora quello l'ho fatto voi due io ne vado in avventura non lo so io faccio le strade io sistemo le stradine di casa in vanilla raga però si dalla prossima settimana perché questa settimana faccio di nuovo l'hardcore con marci venerdì e quindi non non facciamo anche la big vanilla dalla prossima settimana si giorno 4 comunque in tutto questo ne mancano soltanto 96 è vero dobbiamo farci l'orologio bellissima come idea l'orologio che possiamo vedere se è giorno se è notte bello qua serve redstone mi sembra che sia oro e redstone non voglio dire una cavata perché non me lo ricordo non si fa mai l'orologio è per quello non è un oggetto che si crafta così spesso si esatto scendiamo mettiamo a fare questi bei 21 di ferro quindi ti crafto i piedini a te piedini a me e due spalle di ferro e due spalle di ferro assolutamente si ok io ho già lo scudo quasi a metà pensa te talmente ho combattuto allora il quale lo stai piazzando qua ne piazzo un'altra bella metà ore redstone però dovete dirmi come si come si fa raga perché io non me lo ricordo sinceramente proprio di zero carne di zombie la buttiamo qui le frecce frecce non possiamo farle ancora cioè c'è sempre il pollo no per quello dicevo se depositarle io vorrei iniziare racchiappare i primi animali qui non c'è ancora niente non c'è più ferro davvero ragazzi puoi mettere consigli in asia mod perché sei un'altra live ma vorrebbe aiutarti in questa ok deve scrivere sono le 17 e 23 deve scrivere così cerco di beccare il momento in cui scrive è la random modellatrice anche qua vediamo se riesco ehm allora 12 questa è una delle tue prime live su tipoc o sbaglio? credo sia la mia primissima live su tipoc di solito fa fare tipoc e io ci players pa 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 poi piedini piedini perfetto doppia spada ma che cavolo ok con solinaria diamanti eh ok e aggiungi modellatore adesso aggiungo modellatrice anche marty così non è più in vacanza allora spada 1 spada 2 e te le lascio mettete in una cesta io faccio un attimino un salto a livello 12 e un po' di oro un po' di diamante sarebbe il top ci facciamo questi due orologi la red son più che altro dovrei aver fatto anche francicoso allora te la piazzo qua e qua ok ti ho messo la spada e i piedini dentro dentro la cesta e quindi poi quando torni ok la trovi facilmente è avanzato del ferro sì e ci sta a fare un'ascia di ferro o è sprecata cioè ci servirà un po' di ferro ma se hai un po' di ferro sì dai ne sono avanzati 9 dopo che abbiamo craftato tutto vai vai fatti l'accia più che altro a me servirà sicuramente un nuovo piccone perché ho quasi finito eh oh altro ferro dai fatelo che non ho trovato il ferro eh vabbè guarda sinceramente ne ho già craftato altri due te lo lascio anche questo dentro la cesta e quindi trovi piccone spada e piedini nella cesta io il carbone sto lasciando adesso perché sono dicendo lo stack e mezzo sì ci sta sono d'accordo con te allora mi hanno detto che si crafta l'orologio con oro e red son ho 8 pezzi d'oro sarebbe il top riuscire a fare subito gli orologi raga eh sì eh sì facciamo così e qua eh vabbè dai per ora rimango così utensile da buttare mezzo rotto lo lasciamo qua eh potevi aggiustare lo scudo avete ragione non mi non mi ricordo mai di aggiustare gli oggetti lo farò grazie del consiglio prego allora eh eh già finite le mie ferie mi dispiace marty c'è anche franci comunque eh ma io lo sei no troppo basso tu 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 allora ho dei semini no ma tanto li trovo in due secondi e direi che è il momento uh sento zombie di nuovo stef tanta roba nice cioè in realtà non so se è positivo questa cosa però nice lo stesso tu 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 guarda quanti lupi perché non ho altre osse a scheletri porca miseria eh il grano è pronto nel villaggio mmm non credo proprio mi si è spento mi si è rotto il piccone top in negativo salgo 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 pa 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 eh sono io l'unico che odia il grano nelle ultime versioni perché non capisci quando è cotto c'è quando è pronto e quando no nell'ultima versione è super mega giallo sì ma c'è quel pre giallo che è un po' meno giallino che ti confonde prima era impossibile confondersi non mi sta dando manforte quindi era stavo stavo riflettendo un attimino però è vero cioè è vera come cosa ok eh facciamo così ripiantiamo anche le carote che prendiamo perfetto prendiamo anche le barbabiettole prendiamo altre carote eh visto ci sono prendo tutto tanto io sono risalito e prendo tutto quello che mi hai dato grazie mille secondo piccone la spada in pietra la lascio nella chest che può sempre servire ok mi arrivo a portare un po' di cibo a casa è bello tutto ordinato puoi usare anche le bistecchine per i lupi davvero Marci? o mi sta trollando? no è solo le ossa non è solo le ossa il lupo le bistecche per fare recuperare vita mi pare non lo so eh siccome raga su minecraft ad ogni versione fanno delle micromodifiche quindi hai sempre dei dubbi su minecraft sulle cose che puoi e che non puoi fare allora le bistecche per la vita mi dicono nella mia chat eh infatti mi sembrava anche a me eh ma anche a me eh carote sto facendo una zona del barile per tutta la parte per tutta la parte cibo che ho preso un pochino di cose e dici lo facciamo all'investimento di fare un'altra blast furnace? sono quattro pezzi di ferro io ne ho preso abbastanza di ferro ma si dai siamo pieni ci sta dai iniziamo a fare le cose fatte per bene allora ci sta ci sta ci sta ok chiudiamola questa parte facciamo così e allora oh sia questo che questo vediamo se riesco a fare quello che volevo e ah ho preso anche cosa hai fatto? dimmi dimmi questa può essere una bella raccontami allora no 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 mi faccio i fatti miei per ora vado a prendere un po' di un po' di legna si 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 mi è rimasto male si 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 mi dispiace abbandono la vita da caverna e inizio una nuova vita e quindi mi lascia mai in caverna capito non mino da un anno e quindi ascolta ad ora ho portato più ferro io non è vero dai quindi ci sta che vado in vacanza se conti secondo me ne ho fatto tipo un 10 15 in più dai posso vado in ferie ferro posso accettare posso accetto che comunque abbiamo anche un po' di lana prendibile dalle bancarelle che stanno giù e si ne sono notate poco rispetto al villaggio però ci sono se ci serve lana non so per cosa ma se vogliamo c'è oddio non lo so boh per ora non ci serve di sicuro infatti vediamo dopo pa 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 vediamo di prendere anche qua perfetto così e poi questo prendiamo anche qua ma cos'è la farmi fiorita qua sotto scusatemi un botto di legna tuturututututu legna 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 secondo te si fra quanto troveremo un diamante beh non lo stiamo proprio cercando eh è un po' io si da sono a livello 10 eh tu un pochino stai iniziando a giocare a un gioco rischioso no ma non vado in caverna cioè proprio sto fermo sto sento un sacco di modo ma sto dritto e così è difficile trovarli cioè serve veramente una bella botta di fortuna però non è impossibile quindi continuando così diciamo che probabilmente non manca molto allora penso 2 minuti alla notte e passiamo al giorno 5 progressi ma quanto siamo andando veloci beh insomma eh 10 live no no meno di 10 live servono scusami no beh 10 live era senza mai dormire ok quindi sono tipo 6 live più o meno secondo me sono 6 live sì qualcosa del genere vediamo eh trasformiamo la legna è riuscito il video oh redstone stef ho trovato finalmente possiamo farlo hai già l'oro? si l'ho smesso a cuocere sopra quindi adesso prendo la redstone vado un attimino avanti col col piccone e niente salgo dimmi tu quando più o meno si deve dormire ok ti faccio sapere dimmelo tipo 35 secondi prima più o meno allora cancelli li faccio subito ne faccio 5 dai facciamo così e poi ovviamente facciamo così e facciamo così pam yes yes dai facciamolo ancora un pochino un diamantino ti prendo io vorrei delle ossa volevo già il cagnolino come primo animale domestico no ossa non ce le ho purtroppo credo no non possiamo ancora dormire però tra pochissimissimo dai come posso salire pam 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 allora un pochino se arrivate a 100 poi ci farete una serie vado che ansia raga a quel punto da lì in poi diventa ancora più ansioso beh però secondo me il centesimo giorno guarda che un pochettino avanti saremo eh se ci pensi eh ma è sempre un attimo morire 100 giorni avremo avremo sicuramente una fa beh dai dormi 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 arrivo devo salire aspetta sto ancora salendo ciao buddy ciao buddy ma uccidete il golem ma uccidilo tu derick io non voglio morire con un golem no in realtà ragazzi se muoio io o muore stefan abbiamo automaticamente perso la ciana non è che uno va uno avanti eh no ma ci stai facendo spawnare le mob secondo me sto salendo come un cane sto salendo ti devi portare il letto con te cioè è palese che sono spawnati i mob secondo me eh è notte notte quindi se abbiamo creeper vicino a casa sarà colpa tua perfino non ho più il letto non ho finito il mio letto sali e dormi ah ok sei anche tu qua ok si si no non ci sono mob tranquilli no no easy l'ha detto easy signori siamo ufficialmente al giorno 5 oh mio dio che sarebbe poi il sesto in realtà che siamo passati si però tanto viene da 100 quindi 5 di 100 comunque controllo fuori un attimo no fuori non c'è nessuno cioè non vedo nessuno occhi creeper che colini ci sono a prescindere allora no 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 guarda io ho visto uno scheletro bruciare quindi qualcosina l'abbiamo fatto spawnare si ho visto più mob bruciare ah l'ho messo sotto creeper scheletri sentiti in colpa dammi un secondo che guarda se è uscito il video porca miseria che sfiga ho un problema marci non mi amano i cani cioè io sto provando a tamare un cane sprecando tutte le ossa che trovo invece che fare bombial e non mi amano ho appena visto uno scheletro trucidare uno zombie alle spalle stef dimmi qualcuno ha un orologio pensavo avessi il primo diamante lo sai qualcuno ha due orologi dove sei? pensavo sei il primo diamante mi ero illuso ah dai dove stai? dove stai? salve che bello l'orologio è bellissimo come cosa allora non sono abituato ad usarlo non l'ho mai utilizzato nella mia vita non l'ho mai utilizzato la prima volta in cui forse sarà utile un orologio ma secondo me è proprio per le hardcore che serve beh sì io ho sempre guardato il cielo per capire l'orario via salve signor creeper ti prego non esplodere non voglio proprio rovinare la zona cioè non è per paura è proprio una questione di rovinare cioè tu sei maleducato arrivi nei posti e spacchi tutto ma io non sono d'accordo con te avete ragione ragazzi il letto è nella prima caverna ecco perché adesso lo vado a prendere ah qua ci sono anche un po' di frecce per colpa tu è pieno di creeper in giro sappilo adesso non mi dare le colpe ma tu non hai delle ossa no non hai fatto fuori i scheletri zero 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 solo io ho fatto fuori gli scheletri ad oggi mi sa ok è vero da qua ah voglio un cane dai si vuole diamanti siamo sulla stessa barca dai più o meno siamo lì eh allora ho trovato già delle mele quindi se trovi tanto tanto oro sappiamo cosa fare pa 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 una mela ce l'ho eh perché l'avevi quando hai battuto l'albero prima non te ne ho d'accordo mi sa ma c'era una mela io ne ho tre perfetto tu 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 stavo cercando di le ossa niente mi metto l'anima in pace ed inizio a fare quello che volevo fare ma dove vogliamo vivere? eeeh questo è un bel parolone vuoi fare siamo in una bella zona eh e la zona non mi dispiace a me sinceramente cioè abbiamo anche eeeh non so se è un mare o un lago molto grande comunque questa zona qua è un mare quello lì si molto bella quindi non è così male rimanere qui eh no secondo me no ma io ti dico secondo me l'obiettivo adesso è trovare diamanti farsi l'incente in table e iniziare a farsi almeno protection 2 e 3 sull'armatura anche in ferro mh eh si perché almeno lì siamo proprio sicuri che almeno con un perché mi dicono che non ho i cuori dell'hardcore sono questi i cuori dell'hardcore raga o li hanno cambiati in base alle versioni hai quelli con i due trattini dentro? sì cioè quelli due sorta di sim cioè sono diversi dai cuori normali sì 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 quelli aspetti non capisco che che no perché non ce li hai ah io forse ce l'ho diversi perché avevo messo una texture vediamo un po' se ho una texture no non è vero non ho nessuna texture ragazzi no no sono lì stessi abbiamo lì stessi io che Steph mi sa io vedo no no sono lì stessi no sono lì stessi sono identici e precisi forse era diverso in altre versioni il cuore dell'hardcore e quindi lo confondono può essere allora fai la canna da pesca per il gatto non credo di aver ammazzato mai un ragno ragazzi quindi per ora niente canna da pesca sì ragni non ne ho mai visto confermo quindi prima o poi lo farò ma non per ora eh nel dubbio credo che potremmo fare una cosa del genere no vabbè ma sai cosa mi ha detto un fan mi ha detto Luca Zinari che bastava andare nella sezione crafting guardare l'orologio e guardi l'orologio lì e vedi l'ora dal crafting davvero senza craftarlo pensa quanto inutile come oggetto mi stavo andando a piangere c'è talmente inutile ma povero oggetto però la mojang è stata veramente cattiva mamma mia ma proprio orribili sono stati allora facciamo così facciamo così facciamo ok vai vado a fare l'ultimissima spedizione poi basta dire che se vuoi iniziamo a fare veramente una casa da qualche possiamo farci portare il nether volendo ma volendo buttiamo giù sta casa poi e facciamo la casa qua sì perché alla fine è un buon punto e poi ormai sto iniziando a fare quello che volevo fare quindi a quel punto non c'ho più voglia di muovermi ok ok a posto a posto allora continuerò a non dirti cosa sto facendo prima o poi lo scoprirai ma perché dite che non è hardcore io vi uccido mi dissocio però se ti uccidi poi finisci ti prego no no uccido loro i fan che scrivono secondo me allora ragazzi vi state confondendo con la ultra hardcore allora questa è una hardcore normalissimo ovvero che se moriamo è finita del tutto ok è finita proprio non potete più rinascere quella che dite voi che si perdono cuori si riacquiscono solo con le medie d'oro è la ultra hardcore che non è quella che sto facendo noi semplice semplice mi vuoi seguire dai porca miseria oh ah perché ho capito sai perché lo dicono ho capito perché c'è la saturazione ah ma si vede ragazzi lo vedo comunque se volete ve l'abbasso e ve lo faccio vedere ok ve lo faccio vedere adesso beh infatti l'ho immaginato la saturazione a confonderli vieni bel maialino forza andiamo guarda dai che ti porto a casa nuova vedete a posto in realtà ragazzi basta che apriamo l'inventario si vede che sono hardcore perché da lì poi non ti saturo più guardate guardate comunque ragazzi in generale dai su lo sapete che non fecchiamo cose del genere no no ma poi siamo in live si esatto cioè fosse un video capirei oh buongiorno e benvenuto finalmente eh alla buon'ora Steph no ma non è il cane cos'è? dei maialini ecco non è vero dimmi che non è vero per favore e beh bisogna iniziare a portare animali qua adesso scusa agli anichi dimmi pure vediamo un pochino qualcos'altro ma quanti maiali ci sono qua intorno parca miseria oh pop 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 la due e la live durerà circa tre orette oggi raga bene o male non abbiamo proprio l'orologio come quello che abbiamo craftato però all'incirca una roba del genere tu vieni con me forza vieni 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 si 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 ti stavo cercando si si proprio tu proprio tu sei famosissima non lo sapevi però ti conoscono tutti eh si 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 vieni 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 dentro dell'acqua ragazzi ma non capisco dove diamo in essere mu 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 si si mu mu vieni 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 forza forza allora perchè non usate Twitch ma Marcia è su Twitch raga sono in live su Twitch ragazzi che bello mi sto spamando evviva se avete Amazon e volete tirarlo no dai no dai non mi sfamare così va bene così tanto io non ce li ho a priori quindi anche volendo forza mucca muoviti chef io avrei trovato ossidiana però io non avrei ancora trovato diamanti e quindi tu non poter prendere ossidiana e quindi io arrabbiato e quindi tu arrabbiato mu ho capito dove siamo fin siamo in una cave quanto vorrei avere le corde no forse no da qui mi devo andare ragazzi qua muoio qua muoio sicuro lasciamo stare brutto posto è praticamente una caverna con una cascata che mi buttava giù no figliati va bene così si si non abbiamo bisogno di fare Indiana Jones qua ok benvenuta ricordate in 100 giorni cosa farete? beh l'obiettivo è comunque di farci una bella casa delle belle farm qualcosa di bello lo facciamo sicuramente raga si sono talmente tanti che facciamo robe incredibili poi abbiamo la fortuna di essere vicino ai villager quindi comunque possiamo anche tradare con i villager quelle cose lì allora io vorrei finire anche le mucche ecco ti qua ti stavo proprio cercando vieni vieni anche tu sei famosa si si come l'altra ti facciamo un'intervista adesso forza muoviti muoviti io ho bisogno ho bisogno di ossa devo trovare quel cavolo di cane e tenere il cane oppure il cane ci sta eh oppure spider e ci facciamo i gatti che vanno bene anche quelli però o gatti o cani mucca dai che ce la fai su con un po' di parkour dai forza andiamo brava mucca facciamoci sia mesi per cortesia se possibile mucca mucca perché si addormento gli animali nelle versioni aggiornate ragazzi da attirare sono molto peggio rispetto a prima perché dopo un po' non ne hanno più voglia di mangiare e smettono di seguirti che è una rottura di scatole veramente è vero indescrivibile che pesantezza dai mucca sono due ore per portarti a casa mamma mia manco fossi vattadoro io a me sembra un po' da piangere lo sai stef io non mai trovo allora in genere comunque si fa fatica a trovarli così di avanti eh tirando dritto e tutto però almeno uno ogni tanto ti capita cioè qua zero ragazzi zero io te l'avevo detto che sarebbe andata così no no mucca 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 scusami mi stavo distraendo non mi stavo guardando adesso guardate lì proprio là oh e ufficialmente abbiamo anche le mucca perfetto dobbiamo dormire dimmi che puoi dormire velocemente certo che posso aspetta ok perfetto mai che dormo dentro casa e siamo ufficialmente al giorno numero 6 si vola qua eh insomma ahahah ahahah volare è un'altra cosa secondo me però si va si va pedalando piano 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 infatti vogliamo farci farci l'enchanting ragazzi non ci serve diamanti per farci in diamante vorremmo proprio riuscire a poterci fare almeno un protection un protection sull'armatore in ferro pa 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 ma ci consigliate ragazzi in un hardcore metterci almeno la chestplate con blast protection che ci protegge dalle esplosioni di creeper o conviene fare comunque protection 4 normalissimo questa cosa è una bella domanda eh beh però sai lo scudo alla fine dai creeper ti protegge eh ma metti che ti esplode dietro di te cosa fai? eh eh si può succedere un pezzettino blast protection e anche un fire protection ok ok ci consiglio di fare due pezzi protection 4 uno fire protection e uno blast protection potrebbe avere senso si ci potrebbe stare è tutta una mia differenza poi lo provo ragazzi poi lo provo allora facciamo così un po' più in alto ah qua c'era la caverna di prima ma questa l'abbiamo già finita mucche ormai le abbiamo dobbiamo soltanto aspettare un po' quindi così che bello il bioma dei fiori adesso prendo qualche fiore va pensiamo anche un po' all'estetica guardate che bello eh la vita è felice ci sorride prendiamo anche questi arancioni dimmi 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 che cosa succede poi questi sento zombie vedo tantissimi zombie sono sopra di me ragazzi oh redstone stai trovando veramente che non hai idea Steph ma proprio ma sai quanti? vabbè la redstone ormai è stata rara quindi sarebbe strano se non la trovassi diciamo raga ma full prot quattro di ferro dite voi difficile con una protection quattro di ferro eh noi abbiamo 13 livelli ragazzi allora buongiorno oh altro ferro nice non si butta non si butta e anche tanto minimo 8 zombie dovrò andare verso lo zombie ma ti dico ok rip uh no 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 ok un po' così adesso tatatatata ma mi sa che ti ho visto sotto di me ma tu hai idea di quanti zombie ho contro? non è una bella notizia in questo momento lo sai ho trovato una caverna però magari Franci ti alleni su rocket con Nat Nat ne ha più bisogno di te diciamolo però tanto quello lì rimarrà su 5M c'ha la fissa Nat di 5M devi sapere lo so lo so lo so vive lì dentro ma lo vedo proprio da da steam si si no ma il camper ha proprio eh ho trovato una caverna enorme però la sto chiudendo te lo dico subito eh ci sta la chiudo così tanto so che qua possiamo andarci poi con la cobbl ok va bene una dall'altra parte mangiamo ok e mi tocca fare altre torce creeper il primo della serie tu l'hai trovato già? l'hai già combattuto? creeper eeeh 5, 6, 7 te l'ho fatto esplodere ma esplodere è frettissimo sbaglio ma no solito il fatto è che finchè li vedi frontali con uno scudo si gestiscono veramente easy allora prendo altro ferro che ci servirà per l'incudine perché probabilmente ragazzi dovremmo farci con i libri gli incantamenti ok gli incantamenti o incantesimi? gli incantamentesimi ti ho messo in difficoltà non ne ho idea non lo so raga perché l'incantesimo è quando tu lanci un incantesimo l'incantamento è più giusto secondo me non lo so se esiste come parola forse suona bene ma non esiste no no esiste l'incantamento esiste sono sicurissimo e allora è quella allora mi mangio dai vabbè mangiamo ma che cavolo ho appena fatto mangio tutto di pane sento dei mob ma non capisco da dove mmm è incantamento al 100% ha ragione a marci ok no e non mi ricordavo ragazzi giuro che non mi ricordavo non mi ricordavo proprio altri 20 di ferro ragazzi è esploso un creeper mai ne ho fatto esplodere tanti prima no 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 ma adesso 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 no no dove è esploso raga ho di ansietta qua eh esplodono da soli no ti prego non voglio morire in questo non voglio morire così rip almeno al giorno 98 voglio morire così non si chiama di più in realtà io capire se è sinistro o destra il suono ti giuro che su minecraft non ce la faccio no non lo capisci non lo puoi capire è tutto a caso è come se fossi in mono lui te lo fa credere che è stereo ma non è in stereo te lo dico io lo trovo plausibile perché ogni volta che ci provo va sempre male perché sento dell'acqua qua vicino vorrei capire dove cavolo è ma non ci riesco non vorrei che sia nella mia caverna di prima occhio quell'acqua nel caso va bene raga provo ad andare nell'altra caverna a sto punto vediamo un po' cosa cosa si cela in quella caverna aiuto ok anch'io sto andando in zone un po' più turbolente anche se non le trovo a parte tantissimo ferro io continuo a farmare ferro in una maniera veramente indecente io sento sai cosa i droned dimmi quello che vuoi ma senti i droned io come non credo che in una miniera sia normale no secondo me si perchè aspetta perchè c'è dell'acqua e non vorrei che stiano spawnando qui in giro si li sento raga sono qui a sinistra per forza sinistra che in realtà poi non è sinistra si sarà tipo sopra in centro da qualche parte attorno a te allora si no raga secondo me buddy non è stato non è ladro non è lui l'uomo no non è uno che ruba buddy non mi ha solo rubato tutta la roba che ho nella mia casa no no ma io ogni tanto ho il dubbio che siamo nello stesso posto ma io sono più in alto di te no dimmi le coordinate tanto possiamo dircele io sono a meno 126 300 sono a meno 108 586 no vero non siamo assolutamente ti giuro che intanto sembri vedere sotto di me la tua scritta sento il rumore di uno zombie che non mi piace stef sono alla lava mi dici un tipo di zombie che fa un rumore molto diverso da un zombie normale zombie villager ce l'ho di fronte a me bello eh quello sarebbe da salvare però come facciamo a fare le pozioni non ce la facciamo ciao ecco questo è il posto dove tu non vuoi che io scenda oh mio dio e tu non scenderai giusto? eh sappi che uno scheletro mi ha fatto una freccia sotto di me c'era della lava cosa ne pensi al riguardo? io sto facendo io sto minando come non ho mai minato piano piano con calma prego per favore ah non devi cadere scheletro mi serve la tua ossa vieni qua vieni 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 dai bravo io ho due ossa sei caduto sei un imbecille ma puoi essere più scemo è morto intanto aveva solo le frecce no 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 eh ragazzi è veramente grigia qua ma raga ma qua c'è dell'acqua ma che cavolo porca miseria no stef siamo in una caverna subacquea ma sto male infatti sentivi drone ed non ero scemo allora davvero abbiamo una roba del genere? sì 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 poi in un hardcore non sai mai essere felice delle notizie ma in realtà questa non è una bellissima notizia secondo me eh mi sa di no che non cambia niente non ci andiamo e basta è bella solo da vedere ok ok io l'acqua me la son presa ok un secchino d'acqua pure top facciamo le cose con calma ragazzi siamo in una zona molto pericolosa c'era il diamante dove? hai trovato il diamante? ti prego non mi stupirebbe ma non in un posto dove tu vorresti che io scendessi e comunque era l'apis raga non c'è e vabbè con la color correction ci sta che vi confondete porca miseria no sta bene sto bene mi ha centrato mi ha centrato uno scheletro quanti creeper sono lì sotto? 15? marci posso scendere dove ci sono tipo 8 creeper? ma guarda se proprio dovessi dirti una risposta direi di no c'è pure uno zombie full in ferro che dici? no allora no direi che sali non ti piace? direi proprio di no cosa ne pensi se ti dico che c'è un mineshaft? devo andare giusto? il mineshaft non ci devi andare se vuoi che andiamo nel mineshaft devo dire anch'io per forza eh l'ho trovato proprio ora credo che dobbiamo anche dormire sai? eh sì è vero dormo si può? si sto dormendo io stiamo iniziando a fare le cose un po' peggio tipo anche adesso stiamo dormendo mi sa un po' in ritardo qua ragazzi siamo solo al giorno 7 ma stiamo prendendo un po' troppo a confidenza con noi stessi e poi quando succede schiatti ve lo dico io se dobbiamo stare super attenti prego io vorrei scendere ma come fate F3N? guardate le caverne laga ma come? mi narco così mi sembra un po' brutto è un po' eccessivo secondo me è un po' eccessivo devo essere sincero allora abbiamoci un'estate dimmi io sopra di me sento dei ragni giorno 7 avete ragione si è passata una settimana che bello proprietà giorno 7 sembrano i diari di bordo giorno 7 vedete sono ancora vita comunque ti dico io eviterei di andare in un mineshaft perché se ti becchi il ragno velenoso rischi veramente di morire eh eh anche tu sei molto saggio e hai molta ragione è lì sopra ma io ogni tanto mi impallino ed è un problema e io mi sa che sono vicino a un ragno velenoso bene lo sento troppo quante belle notizie non è che siamo la stessa manshaft scusami no erano troppo distanti no ma dov'è raga questa la camera di prima che ansia potete far meno rumori voi mostri ti giuro ho scavato dove dove c'era il rumore per rumore lo sento dietro quindi dimmi te cosa devo fare chiamine cento giorni raga sono cento giorni ragazzi dovrebbero essere cento giorni ti è buttato no no sto facendo eh non mi sono buttato vuoi che ci becchiamo stavolta e io sono molto aiuto io sono tutto bene tutto bene diciamo che sto correndo dei rischi non indifferenti noo un zombie piccolo no 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 attento ti prego marci arrivano zombie all'infinito devo salire aiuto chiuditi in un angolo nel caso chiuditi in un angolo allora devo avere questi per villare molto più rapidi nel caso e anche la carne molto più rapida devi mettere al terzo posto e all'ultimo posto in genere metto le cose ok e devo chiudere vari lati piano piano bene che male che paura raga da me vedete cose easy c'è tranquille che paura e cosa butto cosa butto un fiorellino giallo ma tu stai cercando anche tu diamanti vero c'è un arco e butto questo ho un arco è metà rotto ma ce l'ho con cinque frecce potrà essere utilissimo e si sto cercando diamanti wow 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 lava lava perchè c'è una lava qua oddio ragazzi che ho trovato oh mio dio oh mio dio che zona ok ok ragazzi qui è safe piano piano stiamo tappezzando tutto lo so sto correndo dei rischi però chi non corre rischi non corre rischi quindi non va bene abbiamo chiuso tutte le strade è un detto molto importante me l'ha detto mio nonno tanto tempo fa e quindi da qui è l'unica strada per risalire si si no va bene va bene non possiamo far scemenze per ora senti io risalgo diamanti non ne trovo qua allora si vabbè fai un bel tp no easy no tp no dai lo vuoi fare veramente? no ti sto trollando allora e dopo ci hanno consigliato l'f3n sai vabbè dopo l'f3n esatto ma io mi ricordo una volta tipo quattro cinque anni fa te dico che i commenti erano tipo nooo la creativa no qua adesso ma si dai f3n creativa tipati via dai eh le cose cambiano negli anni cose cambiano buongiorno sei salvato? allora ehm ho visto degli occhi rossi spero che fossero di uno spider normale con tutto il mio cuore a sto punto gm1 raga ma si dai adesso due minuti ci mettiamo in gm1 raga eh appena mi arrivano gli spider brutti si eh facile f3n di colpo lì senti arrivo e venire da me non so dove è strada non so niente io è appena esploso un creeper ehi kim cosa hai fatto con l'arco? si no 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 perchè c'è uno perchè c'è uno schietro lì? raga non volevo farlo esplode ragazzi per quello ho provato a correre ahhhh è uno spider normale? si è uno spider normale no forse no che paura che paura lapislazzuli qualcosa di diverso dalla rensele dal ferro incredibile ma guarda io ne ho visto tanto lapis il problema è arrivarci no guarda ne ho abbastanza per fare quello che serve per adesso 44 voi avete detto che avevi bisogno delle ossa? si tantissime io ne ho 4 perchè i cani non mi amano adesso vado al primo cane vuoi vedere che alla prima ossa me lo da? allora in quel caso il cane non starà a casa con noi allora che rischi sto ma perchè devo rischiare così tanto? non lo so io non capisco che problemi ho che parte sono arrivato? mi sono rimesso ferro ferro tanto tanto ma ci serve ancora qualcosa il ferro? c'è un diamante? in che senso raga? ti stanno trollando il ferro ci serve qualcosa a marci a un certo punto guarda io ne ho 32 quindi non so quanto possa servire no raga l'avrebbe scritto più gente avrebbe scritto più gente 8 di oro invece è tanta roba 8 di oro è tanta roba oro neanche ho tanto 17 e possiamo fare varie mele d'oro eh dicono che c'è un diamante senti vado a controllare per scrupolo morirò in questo frangente che muore step è colpa vostra raga io ve lo dico eh 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 ma dove era raga dove era? ma poi non si può siamo a livello 19 ma che dite raga? e mo c'era la nana di erigite se lo smeraldo poi easy senti quanti mob si sentono in ste zone comunque ne vieno scherzando io sto fendo il pane sono a 30 pezzi 32 anche io siamo lì salve bel creeper non le piacerebbe restare lì dov'è? no? deve per forza perchè deve per forza andare incontro a gente il creeper? cioè non è costretto eh siamo a giorno 7 ragazzi però è il giorno 8 se considerate il fatto che si parte dal giorno 0 ma tanto dobbiamo arrivare al giorno 100 quindi siamo a giorno 7 alla fine contiamo così è la cosa più facile se tu Marci stessi guardando la mia live penso che non riusciresti più a parlare perchè? è tutto quello in cui non dovresti andare quando sei in un hardcore ma te lo giuro eh ma proprio ho appena sentito uno spider e mi è venuto un infarto ok io sono a casa ufficialmente guarda un attimo la zona in cui mi trovo aspetta fatti venire tre brividi di ansia aspetta che accendo la tua live hai presente quei test dove ti dicono quale porta scegli? che torce? devi mettere un botto di... ma c'è un diamante lì da te mi sa eh guarda nell'angolino della lava ehm... oro vedo sei sicuro? però ora si no quello nell'angolo in fondo ci siamo trovati di azzurrino arrivo devi dirmi... devi dirmi ok ehm... meno settantaquattro cinquecentonovantotto ok la sua famiglia lascia tutta la roba ehm... tengo un minimo cosa di... ok così così le frecce le tengo posso seguire... questo lo porto questo lo porto ok credo di aver bloccato degli spider e ne sono molto felice bello qualcuno che parla come me gli spider non sono i rani sono gli spider ragazzi ok? certo l'acqua la teniamo qui questa... il letto ce l'abbiamo forse si può dormire fra poco ehm... si siamo lì lì per poter dormire ok ufff allora da qualche parte qui ci sono i diamanti lo sappiamo tutti il discorso è ne usciamo vivi ridimmi le coordinate allora le coordinate erano meno settantasette cinquecentonovantadue meno settantasette oh dobbiamo dormire puoi dormire? dormi subito? vado? non mi fa dormire? manca ancora pochissimo dai è giù il sole su dai si l'oro l'ho visto ragazzi il diamante non lo vedo dobbiamo farci per forza il terreno dell'incantese del incantamento ma chi è che sta camperando? no 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 vai vai si può dormire mica piazzo 3000 blocchi ovunque per chiudere le strade posso fare una cittata clamorosa? per quella cosa che noi sappiamo di questo mondo ok allora so un posto dove c'è una roba mi ricordo una roba una cosa voglio provare cioè si può no? dopo una ok perché altrimenti muoio arrivo io qua muoio palese allora mamma mia ok sei ha detto meno settantasetti sono a meno centoventi e cinquecento novantotto sì cinquecentonovanta ah ma sei un tipo vicinissimo è cinquecentonovanta ok quindi qua sì a quanti meno blocchi sono? dal dal villaggio? no al bassezza qual'era quello che il dato di quanto sono in basso? eh quello centrale come faccio ad essere a quattordici? ma no stefi non posso tirare dritto giù però sono così in basso marci se vuoi latento però vabbè ho esagerato un po' i diamanti sono a dodici di alzotti dodici ma no ma sei lontanissimo cinquecentonovanta hai detto? eh sì no ma sei lontanissimo sei pedala io volevo fare la cittadina no da dove cavolo è arrivato il bimbo? no 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 sta succedendo quello che non deve ovvero mob che arrivano da posti non definiti perchè non sta illuminando tutto devi illuminare proprio tutto 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 eh devi spammare di torce oh qua ci sono delle torce mi sa che si è passato di qua si si è passato di qua da questa caverna qua allora buttiamo anche l'andesite e chiediamo anche questa strada e dove siamo andati? ragazzi che situazione allora fermati un attimo meno settantasette eh meno tantaquattro cinquecentonovantadue ok tu vedi il mio nome perchè vedo delle torce quindi qua si è passato per fuori ne metti poche stef ne metti poche 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 vado su a panere del legno perchè ci serviranno un sacco di torce aspetta aspetta si bene posso creare un altro colpoio ok ok c'è un po' di ansietta raga che cavolo attento lava creeper una zombie tutto d'oro una zombie tutto d'oro calmo ok c'è dato i piedini d'oro mettili mettili subito no si si e poi sono totalmente rotti cioè probabilmente un hit si spaccherebbero grazie dov'è lo zombie piccolo? è qua sotto non lo vedo non ho tanti blocchi dovrei minare un po' ok ho un botto di legno sto arrivando ciao zombie piccolo c'è un pochettino di ansietta no allora vieni qua dai muori oh bravo creeper ci cari nella lava con un hit? stop ok allora stef io sono sono non so dove sei passato tu però guarda quante poche torce mette stef devo prenderla la redstone eh? o ne abbiamo tante? no non ci ne ho abbastanza allora io sono dove hai messo le torce ma non so da dove sei sceso da dove diamine sei sceso qua? perché non sei sceso in questa gara ti vedo però eh vedo la tua scritta sei perfettamente sopra la mia testa allora scendo dritto ma scavo faccio la tecnica eh si non fare nulla di quello che non va fatto no 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 faccio una tecnica che praticamente scavo davanti a me e poi scavo sotto di me scavo davanti a me scavo sotto di me credo è vero che ho sbagliato la strada posso vedere un diamante nella mia vita? ehm sto panicando perché non ricordo la strada da cui sono arrivato eh conviene farsi la scaletta allora l'ho ritrovata tutta a posto mi vedi ancora? ehm aspetta l'ho shiftato l'ho shiftato l'ho shiftato ti vedo si sei vicinissimo sono sotto di te io non ti vedo più boh guarda sei perfetto ma sei tipo a 5 blocchi da me ok ok ti vedo ti vedo guarda ciao riuniti benvenuto guarda qui qui le c'è le tor da qua troppe poche torce qui ancora qua 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 tutto tutto torcificato lì dietro ci sono zombie li sento si li lasciamo là tanto è pieno di gente ovunque eeeh ah ragazzi non ho messo giorno 8 fatemi vedere si siamo a giorno 8 in effetti e io ho lasciato giorno 7 gravissimo errore il numero più bello del mondo marci 7 ok basta opla perfetto perfetto allora forza ragazzi stiamo rischiando tanto eh stiamo rischiando tanto qua sotto non sono inconsapevole era una witch e sul rumore è una strega ti prego no l'hai sentito è qua sotto lo so qua bisogna togliere l'acqua è qua sotto è qua sotto non la vogliamo fightare vero? no quella no sta arrivando hai l'arco? eeeh troppe poche frecce tieni no 5 questo devi per forza uccidere con l'arco se no se ti ammazza è un casino beh se mi ammazza direi che è più che un casino ma se ti becca scusa volevo dire è andata ok vado giù io metto le torce ok è pieno zeppo di oro prendiamolo perché le mele d'oro io le voglio senti quanta lava c'è ok si si adesso se noi torcifichiamo tutto poi qua non spona più nessuno si ma da questo lato ci sono più creeper occhio arriva vuole esplodere no ce l'ha con te comunque per i creeper è molto meglio avere lascia ma io ce lo lascia perché non la sto usando allora è così io non amo che esplorano fanno buchi dai buchi arriva altra gente ma no ma che caverna hai trovato no esattamente ma è molto più grande di così in realtà questa è solo una piccola parte in cui mi sono deciso di diciamo di avventurare perché poi qui è un po' un disastro però ma che è tutto occhio marci dietro di te marci non preoccupare no io sapevo di fare sta cosa tranquillo sì ma a me è esplodo dietro diamanti 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 allora stiamo rischiando un botto senti se ci sono due diamanti prendiamo ce ne andiamo te lo dico subito ok davvero davvero no uno sotto e no ma tanto ce ne servono no ce ne servono cinque dobbiamo farci anche il piccone in diamante come la prendi l'ossidiana ah ma qua ce ne servono sicuramente ancora dai sì se cerchiamo sì il problema è che c'è tanta lava a me la lava mette ansia recupero recupero vita devo andare a recupero la vita ragazzi eh qua i canyon così sono brutti perché ti cadono dall'alto eh lo so ok ho illuminato un po' tutto quello che potevo di lassù ho paura c'è un creeper sai chi è mai esploso alle spalle prima il creeper vero? sì mi hai detto cerca di fargli il critico al creeper eh ma muore comunque con quattro hit con tre se fai i critici ma il critico non è dare semplicemente l'hit full? no devi saltarli davvero cose di pvp che non ho c'è uno con un zombie con una spada incantata non sarebbe male prenderla ma è morto? cioè è morto quello con la spada ma veramente? ma adesso non ci posso credere stanno morendo ma cosa stanno combinando? non lo so marci ma siamo nel classico punto in cui possiamo trovarci mob dietro all'improvviso che ci ammazzano è esattamente l'unica cosa che non dovremmo fare non so se hai notato io sto torcificando a caso tutto sì esatto sono ragazzi sono sponati sopra di me io ho una vecchia tecnica tunnel e via quante torce hai? 50 io ne ho pochissime non hai coal o non hai... no ho finito il coal ho finito no non ne ho più neanche io però ce n'è qua ad esempio da prendere sì lo sto prendendo mamma mia ragazzi qua inizia... ecco arriva il creeper ci servono lapis? tu prendili sempre i lapis sono in alto sono un po' una sbatta vedo dopo il canyon qua io lo so che ci sono dei cavolo di diamanti so anche quanto è rischio da stare qua tre colpi ha il creeper con i creeper e se vuoi c'è un altro arco mezzorotto ma tieni ho trovato le frecce tanto fai così una cosa importante dove vedi che ci sono delle caverne verso l'alto ok vai e chiudile con la cobblestone ok lì non potrò... no non può passare nessuno ok da qui ragazzi siamo abbastanza puliti qui c'è lava sotto ma si scende... uuuh ma qua ho rischiato un botto raga ragazzi stiamo facendo una roba veramente indecente per trovare... no non è indecente non è indecente è che abbiamo trovato un po' un mondo un po' pacco sì ma stiamo rischiando molto di più di quanto dovremmo eh sì quello sì sono d'accordo proprio oggettivamente ma da ma lì c'è un'altra caverna sotto ma c'è infinito raga tutta questa zona qua ok fatta sì c'è un po' di ansietta raga devo essere sincero c'è un po' di ansietta perché comunque non stiamo giocando stiamo giocando comunque in hardcore eh c'è e ci stiamo comportando uuuh un enderman che mi ha guardato male ti ha guardato? e notte dormite no no però ho rischiato dormiamo? dove hanno letto? eccolo qua ok tengo sempre l'orologio così me lo scrivono loro in chat vai grazie raga sai cosa vuol dire questo? come c'era un ender dragon raga sì che siamo al giorno 9 il nostro obiettivo è il giorno 10 ovviamente però non è il 100 raga sì abbiamo toglietto uno 0 raga cioè che cavolo non esageriamo allora no sinceramente non avevo in programma di rischiare così tanto che l'esplosione non mi è piaciuta no tranquillo è un nuovo posto tu devi dargli un hit e farlo esplodere secondo me il creeper guarda che quasi quasi no no vabbè no creeper no 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 muoio tuttissimo adesso non cadere nella lava steffo mamma mia a me preoccupano guarda che mi preoccupano più di skate rake a me più la lava di qualunque cosa io ho la fobia della lava ma ci dobbiamo trovare dei cavolo di diamanti io muoio no vattene davvero davvero troppo occhio 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 vai via vai via no 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 non sarei morta però ho sempre un po' di paura ok che questa zona qua mi sembra ottimo si va molto in basso molta lava qui ci sono per forza i diamanti da qualche parte ma che cavolo bisogna chiudere quest'acqua lo facciamo con la tecnica dell'acqua così ma perchè stiamo avendo tutta sta sfiga sui diamanti io ti ricordo che boh ti ricordo che in tutte le sfide ne ho sempre trovati una marea quindi mi sento un po' in difficoltà eh sono io il problema mi sa no dai porto sfiga ok serve veramente un sacco di di call ok un po' ne ho piazzato io comunque raga scusate se non leggo sempre la chat ma è un c'è un po' di difficoltà quando torniamo a casa ragazzi facciamo due giorni di coltivazioni tipo c'è proprio zero rischi una vita semplice e tranquilla esatto perchè se lo stai seguendo adesso stiamo cercando di trovare altri tre pezzi di diamante perchè abbiamo due diamanti ma ce ne servono cinque per fare il tavolo degli incantesimi e per fare il piccone tanto non vogliamo farci full diamond in questo non è proprio la nostra necessità in questo si non ora la necessità adesso è avere un sacco di torci e torcificare tutto dove c'è la lava mettere l'acqua tipo qua ok si guarda se noi torcifichiamo tutto non spona più niente sotto una testa siamo già un po' più scialli si beh da un po' che non vediamo mob il problema è che ragazzi stiamo girando in lungo e in largo e non ci sono diamanti ma ti ho detto che guarda che davvero la lava è la cosa più pericolosa che c'è basta un attimo sbagli devi mettere i piedi e la tua vita è finita ed è per questo che sto mettendo acqua carbone 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 cosa butto perché sono andato a prendere i fiorellini cioè era il momento di prendere i fiorelli no ci servono per la casa dopo sono importanti ok ma abbiamo una flower forest di casa eh ma ormai li ho presi li ho pure selezionati bene mannaggia selected by stefo tra l'altro ci sono i fiori per farmi il letto celeste è quella la cosa importante allora qua c'è una zona di mineshaft sicuramente dobbiamo prendere il coraggio e andare lì cioè lì diamanti li troviamo dai marci vieni qua con me forza vieni 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 sei pronto sei sicuro psicologicamente ne hai bistecche eh? ne vuoi? ne hai bistecche? io ho carne eh perché il pane ti da meno l'elterogen in fight dammi dammi ti do 3 carne il pregno ha solo 7 ma tu sei sicuro di fare questa cosa? qui dentro andiamo dov'è la carne? perché non l'ho presa? eccola qua vai spamma di torce qui pure bisogna spamare però stesso ah 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 era proprio pericoloso ah 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 che rischio che ci siamo presi eh? penso di volerti parlare allora sono tutti qua si togli quest'acqua che l'acqua dà solo fastidio eccoci qua questa è la zona io metto torce ah anche qua sopra oddio uh c'è un creeper vicino a me mamma che rischio arrivo non mi ha fatto niente faccia di serpente torce 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 non si ha mai trovare la chest così al volo no con i diamanti dentro magari eh è quello su cui io sto sperando per quello sto rischiando svegliamo sudati ma guarda non è neanche chiedere troppo dato quello che stiamo facendo da due ore ma in caverna c'è qua sopra pure ma te l'ho detto che è tutta così ma siamo no non è una ok guarda questa caverna è chiusa no 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 tre piccolini no Steph dove sei? Marci non ti vedo chiuditi aspetta un attimo uccide tutte e tre perso solo due cuori mamma mia ragazzi mamma mia quelli piccoli ragazzi sono pesanti porca miseria zombie villager ciao eh mi dispiace che dobbiamo fare ma mori porca miseria mori non ti voglio più vedere io vado a specificare davanti a me avevo trovato una zona interessante di mineshaft oh mio dio è sempre uno spavento vedere sia lo spider che no 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 scappa Marci scappa mi stai mettendo ansia ogni 2 secondi vabbè tutto ok? si si no no tranquillo me la sto destreggiando abbastanza bene l'ha detto quasi scendo un botto ok ok io veramente il compito che mi sto prendendo è veramente di torcificare tutto quello che riesco tutto che bello ehi creeper lì lì per esplodere a fianco a me dove stai? sei lì? sono di qua secondo me è bruttissimo qui arrivo vendo l'oro tanto che una mela d'oro potevamo farcela comunque ma davvero ho trovato una vena di 9 d'oro 9 io prima 8 tanti tanti ma se non ti vedo eh sono in un mineshaft sono andato un po' più in basso di te no anch'io sono al mineshaft sono ad altezza 26 no e ti vedo tipo dietro di te credo io vedo la tua scritta siamo più o meno alla stessa altezza ok scusa sto torcificando siamo abbastanza distanti in lunghezza non in altezza o altro più torcificati così penso che non si te lo giuro sto veramente spammando di torci che non hai idea ok dai fatemi trovare una cesta me la merito meno male che mi stai dicendo di mangiare mi sto dimenticando a volte sai faccio di nuovo le ma secondo me abbiamo anche una casa siamo vicissimi siamo non mi ricordo più di avere una casa niente neanche qua e qua c'è veramente 17 creeper eh almeno ne esplode uno e esplodono tutti ma siamo tipo uno di fianco all'altro vero? si arrivo bravissimo è stato bravo il creeper che ha ucciso lo spider poi ti dico dove dobbiamo andare facciamo questa zona dai ci sarà una cesta no? che brutta zona questa è veramente brutta aspetta e tolgo quest'acqua non tolgo che quest'acqua copro questa è la zona diamanti no 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 marci mi hai lasciata quattro cuori ma sai che è sponato di erino? voi l'avete visto ragazzi? credo sia caduto dall'alto mamma mia guardate questo è stato il primo rischio dell'asteria cesto 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 davvero? apriamolo assieme vamos vai vabbè ferro dai ferro è l'imtag prendi 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 e torce torce le prendi te ok prendi tutto te i semi magari prendi le prendi per darci io ce l'ho i fiori prendi tu che cosa posso me lascio tipo l'andesite quella tu sali di lì e io da l'altra parte allora ok prendi questa non ho mai pensato che dei diamanti valessero di più di una name tag ma in questo momento lo penso come no c'è l'enderman porca l'enderman che becca no lo schietto che becca l'enderman è la cosa mai vista ma che livello siamo? siamo a livello 20 sono troppo in alto stessa tutto ok non mi è piaciuto moltissimo quella niente a me tutto ok ce ne son pochi tranquillo tutto ok ok sì sì sono full vita però ci sono un po' di creeper oh my god marci devi arrivare qua devi arrivare proprio qui dove sei? non ti vedo però l'esplosione del creeper era vicina ti vedo? sei abbastanza vicino guardati attorno io non ti vedo proprio vedo solo tutto non torcificato e questa cosa è un problema ok ti ho visto? no 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 lo spider no lo spider no qui è cresciuta una piantina sto rischiando moltissimo qua non rischiare fai con calma meglio che arrivi tra 5 minuti piuttosto che rischiare diamanti buono buono quanti sono? non lo so creeper arrivo ho quasi rotto lo scudo in sopra di me mi butto? occhio eh marci non ci credo uno no ma scava scava sui lati l'hai aperta la chest qui? no c'è una chest? me l'adoro dai ma non è male sei sicuro solo dove era? vai a prenderlo lì sotto lo trovi per terra i fiori sono più importanti piadino adesso ti saluto dammi un secondo non ho le torce devi venire a torcificarmi un attimino te però per favore e ha finito le torce no non è vero ogni 25 metti qua metti tutto in giro qua qui era proprio qua? sì mi hai preso uno sì? sì dove stava terra perché non ho potuto raccoglierlo però ho controllato già tutti i lati di nuovo uno cioè prima due era uno ragazzi tre diamanti due volte ho buttato il piccone per sbaglio mi sa che non dormiamo a sto punto tanto che c'è frega peggio di così hai dei call? no è quello il problema ora serve veramente il call qui c'è del call qua sopra ragazzi se possiamo anche dormire se così facciamo semplicemente passare il tempo hai ragione vai dormi mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi cosa sta succedendo cosa cavolo sta succedendo non pensavo avremmo fatto un inizio di serie così tanto complicato un po' too much non pensavo però se tu li hai trovato i diamanti qua si può uscire uuuuuh tanta lava questo è un buon segno è bella sta zona anche io ho il feeling che possiamo trovare altro comunque io ho spaccato praticamente il secondo piccone a di ferro sei quando erano finiti io ti potrei già io purtroppo ne avevo soltanto due non pensavo di stare in miniera per due anni lava qua tanti lapis tanto tantissimo ma quanto oro c'è ma quanto oro c'è eh ragazzi niente qui sopra bisogna andare a mettere le torce raga vabbè qui ci sono lapis a palla e anche coal eeeh eheheheh si è spaccato il piccone che faccio madonna questo creeper che è apparso dal nulla così tutto bene? si si tranquillo io faccio spawner apposta ormai ma è enorme questo mineshaft oh altra chest altre due chest dimmi che c'è un diamante ti prego ti prego un diamante e nell'altra nooo solo uno non possiamo aver sta sfiga te lo giuro un diamante c'è qualcosa di utile eh? adesso guardo è che c'è c'è veramente troppa gente te lo giuro io non ti vedo neanche più oh c'è una c'è un arco vabbè l'arco ho un'altra neemta che toh ma che ce ne facciamo di tutte queste neemta cioè vabbè almeno avremo tanti animali tre neemta ancora vivremo in compagnia questo non l'avevo visto raga devo mangiare capisci che è una questione d'orgoglio andar via con quattro diamanti di cinque cioè non possiamo un altro chest un'altra meladora ti prego nooo certo che ne hai trovato i chest adesso tutte lì erano tre ne ho trovate vicine incredibile due ore che facevamo mineshaft io sono molto lontano da te eh infatti io sono in quella situazione in cui me ne dovrei andar via sì allora prendi di testa le cose io non posso andar via da solo ok perché non ho un piccone e non ho legna per fare una crafting table ah non hai un piccone uh pensavo che te lo stessi rifacendo no devo assolutamente venire allora non ho la crafting è quello il problema no no devo venire devo venire arrivo 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 vedo se c'è un po' di diamanti uh c'è un altro pezzo di caverna qua beh mentre tu mi raggiungi io continuo a cercare quest'ultimo diamante lo voglio non possiamo andarcene senza guarda il livello mi raccomando non non siamo 19 è di andare sotto sotto ah ti vedo ti vedo mizze ma sei lontanissimo rispetto a me io sto ponendo un botto lì c'è un'altra cesta ti prego niente vabbè ma quante cesta ho trovato? no per curiosità eh qualcuno le sta raccontando ma penso sei tipo sei no ragazzi lo spawner di ragni velenosi lo so l'ho visto ma voglio lasciarlo proprio stare raga non è proprio il caso no adesso vi saluto sia colios che piadina scusatemi datemi un secondo è questa la zona qua c'è l'ultimo diamante ma qui ragazzi si muore ve lo dico io che qua è il posto giusto dove fare la morte no 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 mamma mia mia ho avuto una reazione incredibile avevo il creeper dietro accidenti non so più dove vanno andare mi sono perso io vedevo il tuo nome prima dove diamine sei? io non ti vedo e non ho un piccore mi sento nudo eh sto cercando di arrivare ma non capisco dove tu sia è qua? è di qua raga? no non è di qua è qua non siamo mai andati sono in bassissimo perché adesso sono a 18 e sono meno 109 e 710 meno 109 sono a 8 io mi sei da questa parte sei non so più come muovermi ok no no ok sei per forza di qua prima ti avevo visto dovresti apparirmi ok sono dove ci sono uh c'è il ragno velenosi lasciamoli stare ti vedo ti vedo siamo vicinissimi sono sopra di te occhio a come scendi è everywhere lava ok non ho torce quindi mi fermo un secondo non ho coal qui c'è coal raga siamo tantissimi ancora comunque questa cosa vorrei dirvelo ah ah non voglio morire ok dammi un sicuro facciamo le cose con calma non scrupolo ok dove sei? perchè non ti vedo più? eh perchè abbia trovato credo uno spawner di ragni velenosi però devi lasciare stare ho sentito il tuo colpo sono proprio sopra di te sto sì ho visto che ti stai muovendo sto ritorcificando un secondo sì adesso sto fermo ok qua c'è il coso di ragni velenosi chiudo vediamo qua ragazzi ragazzi non è giorno 11 ancora guardate f3 giorno 10 a marcomi 22 grazie prendi la legna del mineshaft per fare la crafting raga sono un imbecille ma infatti per quello non capivo io cioè ti ho detto ma ma secondo me è in una zona dove non può prenderla nooo ma che cavolo non ci avevo minimamente pensato oh my gosh qua ragazzi c'è per forza il diamante me lo sento uuuu l'ho vista la zona la intendevi che c'era un canyon gigante? sì quella è la zona giusta questa è la zona se e siamo noi in alto siamo quindi potenzialmente però lì mi sa che non c'è niente non c'è niente senti arrivo da te congiungiamoci eeeh ma ho fatto arrivare di gioco sto cercando la strada ma qua sei qua sei qua in qualche modo sei arrivato lì devo mangiare io ho finito praticamente il cibo e gli dico solo questo non è una buona cosa io ne ho 27 i pane eh? si ma tu stai salendo e sto scendendo ok siamo qua nessuno quindi tieni ok no raga l'acquistazione non stiamo proprio con cioè non li stiamo proprio neanche guardando io te la butto lì dimmi fai un altro piccone di ferro dopo anche per me per favore eeeh si no non stiamo in 33 live di fila raga sarebbe bella come challenge però no grazie ho una vita ancora no vogliamo pensare alla nostra salute mentale più che altro si ci tengo ci tengo e hai i video del canale ecco mettila così allora vabbè la carne ai zombie sinceramente non so neanche perché me la sto tenendo possiamo quasi dormire ma non ancora a me si sta per spaccare anche lo scuro no io scuro sono messo bene e sono sceso io stef non sei visto stai iniziando ad andare ma ti sto facendo il piccone io si no 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 adesso salgo sto solo togliendo la lava dove c'è mettendo le torce sotto ho fatto la scalettina questa parte non era ancora visitata no invece si che livello siamo qua siamo all'undici sai che ci conviene veramente fare tunnel dritti si ma dai ma che tristezza cioè siamo nei mineshaft più grandi mai visti e dobbiamo fare il tunnel dritti perché non troviamo diamanti cioè io capisco la sfiga ma sono imbarazzante come cosa basta sti piedini non li voglio più eccomi c'è il aspetta tieni il ferro che ti serve ah tanto il piccone ce l'ho cioè il ferro ce l'ho in realtà e tieni un po' di coal cosa butto butto questo 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 le stringhe le vuoi tenere? beh si vabbè chi se ne frega delle stringhe in realtà vaga un po' da teniamo teniamo tutto per adesso mangio dove sta andato? no sono fermo sono fermo ok io mi devo fermare fra 5 minuti ma voglio continuare 2 sec voglio trovare il diamante prima di questi 5 minuti cioè è proprio una questione di principio te lo giuro io al posto tuo vorrei tornare anche a casa poi non mi sento molto sicuro FK in sto postaccio aiuto livello siamo a 12 vuoi minare qua così? ma si andiamo? ma mi sembra impossibile non ci sia un diamante in giro dai anche scavando così dovrebbe esserci un diamante quella vai scaviamo lapis i lapis tu trovi cosa? i lapis vabbè dai se avessi trovato in 30 secondi scavando dritto mi sarei preoccupato il cavo è sempre shiftato mi raccomando ciao loco grandissimo loco andiamo andiamo ci troviamo a altezza 11 ok tra quanto finite non lo so ragazzi ormai sono preso dal dal cercare questi camoni diamanti e poi dal tornare a casa dai gotta il momento la priorità è tornare Diamanti Oh mio Dio Steph Prendili Steph Sai perché l'ho trovato? Perché devo andare a FK E lui ha detto No facciamo gli trovare un secondo Ma sai che è uno No non è uno Non è uno Finalmente È finalmente Steph Ti prego Vieni a inquadrarli Per un favore No no Prendili Non voglio neanche vedere Io non li voglio vedere Sono otto Li potrei bruciare oggi 1 2 3 4 5 6 7 8 È tutto vero ragazzi È tutto vero Allora Metti la crafting Facciamo questo piccone In diamante Dobbiamo dormire Dormiamo Altrimenti qui veramente Fammi chiudere Dopo la scala Facciamo noi lì in su Non saliamo minimamente No Cioè proprio dritti Verso su Ah dritti Dritti è pesante Io farei tipo scalettine Steph Buddy ha rubato Sputtacchiotto Insieme a Martina In live Raga ma è impossibile Che l'abbiamo fatto in live L'avremmo scoperto immediatamente Immediata subito Allora qua facciamo così Stati guarda Così Così E mi vado a scavare Ma non li prendo per il portale Ragazzi Prendo solo quelli per Per il tavolo Ma che ce ne frega Del portale Però Quanti sono 5 No 4 per il tavolo 3 sotto 1 sopra 2 diamanti Sui lati Sui lati E un libro Facciamo che dato che Tanto ti devo aspettare Io continuo a picconare Ma che Ho spattato una freccia per sbaglio Ha pensato fosse un creeper Cioè un Uno Un creeper Il famoso Di creeper lancia frecce Dov'è che sono finite L'ossidiano Raga Ho rotto l'ossidiano Ma dove è andata Scusate Probabilmente l'eventario pieno Sì ma Ah è andata lì sotto Preso Ice bucket challenge Andiamo 4 vero ragazzi 4 2 diamanti E un libro Raga ci siamo Mamma mia Che spettacolo Stasera Il libro La carta Ne abbiamo visto Canna da zucchero Perché la pelle Ne abbiamo già Ho ammazzato un sacco di mucca Ne ho 4 Possiamo salire Sì Io direi Sto già facendo una scaletta Ci credi se ho finito Un altro mineshaft E sto posto è veramente Incredibile Guarda tu devi stare dietro di me E fare Le torce Allora Cosa c'è? Creeper 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 Sembra Un film horror Scappo Sto arrivando Dove cavolo sei? Vai ci sono Ok Dobbiamo comunicare via chat Mi sta Quando tornate in superficie Adesso Raga devo aggiornare Il giorno 11 Avete ragione Quindi Giorno Le sto mettendo E si Adesso le metto A parte che Le ho messo nel secondo slot A che livello siamo? Siamo al 20 Madonna 23 Al 23 Al 23 Stef Al 23 No 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 Noi il mineshaft Però non lo vogliamo Quindi chiudiamo E viriamo verso destra Giusto Però dell'oro Ma dell'oro Non ci interessa No ragazzi Basta C'è 22 di oro 62 di ferro Basta Voglio tornare a casa C'erano tante cose Che potevamo prendere Però È ora di tornare a casa Vivere una vita serena E tranquilla Quindi Andiamo No Stefano mi ha insultato Eh ha fatto bene Mi ha detto Che faccio vomitare Addirittura Vomitare Che si prenda un biochettasi Mentre ti guarda Così ti può guardare Il biochettasi Io se diventassi Miliardario Acquisterei L'azienda del biochettasi Perché È la medicina Che mi salva la vita Tutto il tempo E quindi Per ringraziarli Vorrei acquistare l'azienda Il biochettasi È sacro ragazzi Non ho più torcio Devi torcificare tu Devo torcificare io E io torcifico Ma il 46 Allora È stata una spedizione Difficile Io ne sono uscito Con 22 livelli Ma guarda che No 19 Guarda che tutto Questo coraggio In un hardcore Quando si è così Poco equipaggiati C'è la poca gente Infatti Non so se siamo Intelligenti o stupidi Decidete voi Però Comunque siamo vivi Adesso Ovviamente Ora troviamo la lava Di fronte a noi E moriamo Tranquillo Tranquillo Che tenere Alex Allora Siamo Oh mio dio Stef C'è la luce del sole È proprio È proprio la terra È proprio quella grassa Ed è proprio giorno Aspetta che quando C'è gente Non c'è gente Eh ok Ma da qua Dov'è casa nostra Di là Verso di là E le coordinate Eh no Però se tu eri a 500 Io ero a 300 Quindi bisogna andare a meno Come hai fatto a perderti Nel giro di due passi Qua 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 Girati Gira Gira qua Vai andiamo Siamo fuori Guardate che bei colori Che ci sono in giro La luce La luce Forse sopravviviamo E dovrebbe esserci C'è il villaggio Guarda Ah vabbè dai Alla fine Abbiamo talmente scavato In miniera Che ci siamo riavvicinati Al villaggio A quanto pare Ah Che bella notizia Scusa No 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 Spazio Per prenderlo L'hai proprio ucciso Per divertimento Che brutta persona Stef ma è impossibile Che fate 100 day Beh di fatto Siamo A 11 E per ora Cioè abbiamo Siamo gestita Allora ragazzi È il momento Questo cane apprezzerà La mia avventura 10 ossa 1 2 3 Eccolo Sì Vieni 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 qua a fianco Ciao bello Andiamo andiamo Forza E abbiamo anche la name tag Quindi ti diamo pure il nome Allora Ne devi sprecare almeno 5 Ma non me le fa paura Ma è tuo questo qua Mi sa No perché non stai usando le ossa C'è la spalla in mano Guardavo le ossa Al primo Dai Vai Vai Al diavolo Vai Avrò usato 10 ossa totali Quello lo chiameremo Morto di fame No Eh sì E beh Si fa contentare Da un solo osso Almeno il mio è esigente Cioè ha ragione Io lo voglio chiamare Cane 7 Cane 7 Bello Ma povero Dagli un nome decente Tra l'altro 7217 Di spettatori Tu non lo sai Ma Io ho il mio cane Ai tempi Nella mia vecchissima Si chiamava Nike Beh ci stai carino Bellissimo Però Posso dirti Che è veramente triste Avere dei cani In una casa così piccola Cioè abbiamo 8 metri quadri di casa Adesso ti giuro Guarda Mi vado a fk A due secondi Facciamo la casa Tutta A nove diamanti Stai giù Mi metto nell'angolino Stai giù Questo non lo posso comandare Perché è il tuo Allora Subito Arrivo subito Vada 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 Carottine Beh Sì 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 Vai Vai In effetti Perché l'ho dato anche a lui Tanto non poteva far niente di più Non ho del grano Che mi dispiace Ok I maiali iniziano ad essere quattro Quindi Iniziamo ad essere messi bene Tu devi entrare in casa Ce la fai L'altro c'è riuscito Il cane di marcia è più intelligente di te Vieni Forza Cane Dai Oh Bravo Giù Parca miseria Ecco lui i marci Fatti su Ragazzi se marci non torna E non possiamo dormire Io impazzisco Io impazzisco Ve lo giuro Allora tu stai qui seduto Da bravo Depositiamo un attimo Tutte le cose nelle ceste Va Vediamo un attimino Diamanti Non ne abbiamo altri Ma abbiamo 3 di redstone Lapislazzuli a palla 22 di oro Che possiamo iniziare a cuocere Sinceramente 44 di ferro Già cotto 62 ancora da cuocere Poi Tutti i vari fiori Che ho preso prima Che erano veramente il bottino Meno utile E indispensabile per oggi Ma L'ho preso Quindi ormai ce l'abbiamo E va bene così 3 mele Da aggiungere a questa Diventano 4 mele Così ci possiamo fare le mele d'oro 18 di carbone Che è veramente poco Perché l'abbiamo sprecato tutto Con le torce Mentre eravamo in miniera E Dopodichè L'orologio va bene La gunpowder La possiamo mettere No però la redstone La mettiamo qua Marci Disordinato ragazzi Anche Qua Dobbiamo mettere E Cose del genere No Facciamo così Facciamo Che mettiamo Anche No le frecce Ci stanno qua Hanno senso Ma in realtà le frecce Ma posso tenere anche L'altro con l'arco Le ossa Le mettiamo Qui E direi che va bene Ora Guardate un po' Cosa possiamo farci Vi faccio vedere Prima di tutto È il momento Di farci una bella Mela d'oro E ce la teniamo E ce la teniamo Sempre bella pronta Pacchete Oh Che top Che top Signori Questa è già Tanta roba Ok E poi vabbè L'oro lo lasciamo Qua cuocere Possiamo iniziare A prenderne altri Posso in realtà Già craftarla Vai la craftiamo Un'altra mela d'oro Così Ce l'abbiamo anche Per marci Quindi Melettina Opla Perfetto E la mettiamo Assieme al cibo Così marci Si trova già Qua bella pronta Per l'avviso Adesso Vediamo un attimino Vediamo un attimino La mela d'oro L'abbiamo fatta Volevo Non ho Stick Ti ho già craftato Una mela d'oro Vieni quali stick Ti ho senso stick Guarda quanti ne ho Allora Tacchete 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 Non si fa così Sono scemo Si fa così Opla E ora Io Vado a pescare Vai a pescare Eh si Per il cane Eh per il gatto Eh 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 Ah povero marci Questo lo lasciamo qua E l'arco Già l'abbiamo Va bene Ehm Ragazzi nel mentre Ho ancora 7300 persone Che costanza Questa live Anch'io eh Provo dall'inizio alla fine Che costanza Allora il tuo cane è fuori casa Non mi fa piacere questa cosa Perché poi Puoi entrare per favore Eh Sei bloccato lì Purtroppo il tuo è un pochino meno intelligente del mio Facciamo il giro di qua Cane Ok bravissimo Quante neppi abbiamo? 3 Quindi possiamo fare due cani e un gatto Due cani e un gatto Esatto Eh mica male Alla villager Ma porca miseria Mi vuoi far Ti ammazzo Oh L'hai messa qua C'è del ferro Quanto oro che abbiamo ragazzi Sono 42 lingotti già pronti Ma come? Ah di ferro Di ferro Oro Prenditi una mela d'oro Tinitela Ne ho già due di mele d'oro io Perfetto Quindi Non è inutile che la prendo Faccio l'envil Faccio l'incudine Battene No l'hai ucciso L'ho sentito No l'ho pestato Se ne è andato Prova a tornare E Ti distruggo Apri sta porta Se la apri Stai dicendo che ti devo far fuori Non ci provare Vai a vivere la tua vita Puoi vivere bene Lo so che probabilmente Quello che prima ho fatto fuori Era tuo figlio Non mi interessa Vai via Puoi ancora vivere Dobbiamo dormire No ragazzi promesso Una la teniamo per la farm di ferro Dormi 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 So salgo So salgo So salgo So salgo So salgo Ah una nemta che ci serve Per la farm di ferro Sì la dobbiamo La farm di ferro dobbiamo farla per forza Perché è super mega semplice da fare Ok Soprattutto se siamo vicini a un villaggio Tre villager servono E E uno zoom La cosa più difficile E fare entrare lo zombie Vai via Vai via Vai via Ma questo villager è pronto ad entrare Nel dove vuoi tu Che poi hai visto che se qua apri C'è le mucche Ma come ho fatto entrare? No ho salutato il lecinto di prima Ah infatti Oh c'è un creeper Eh Ok Eh perché abbiamo dormito tardi Lo cederò da fuori Aspetto Allora Ma è sparito No 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 Ma No ti giuro non c'è più Ma come No è qua Occhio Non perdiamo la casa Mi faccio seguire Mi faccio seguire Seguire Sì ragazzi Voglio palesemente vendicare il suo figlio Quello lì Devo cambiare il giorno È meglio se non esplode Ok Nice Allora Giorno 12 Giorno 12 12 lunghi giorni in hardcore su minecraft sono passati Mamma mia guarda 12 lunghi giorni Ciao zombie È il mio cane quello lì? Il mio cane questo No È il tuo Sono entrambi in casa no? No il tuo è fuori Non so perché No Non è il collare quello Ah questo è un altro cane Lo prendo Che poi scusami Non puoi ammazzare i salmoni Per dare da mangiare i gatti Penso di sì Che vado bene lo stesso E allora perché abbiamo aspettato la canna da pesca? Perché È la stessa cosa che Quando tu non hai preso il legno Nel minecraft Giusto Giusto Dove ero stupidità Io ho due cani Acuta ragazzi eh Sì ma dobbiamo fare i gattari Cioè mi piacciono anche i cani Ma qua dobbiamo avere più gatti che cani Ci sono più belli i gatti Diciamolo Allora Così fai triggerare metà della live Io ho più o meno capito Che il 50% della popolazione mondiale Preferisce i cani E il 50% i gatti Quindi se tu dici La tua preferenza Triggeri metà mondo No dai Fa niente No Allora E vediamo Grazie Alessio per la donazione a 2 euro E Quattro pesci Quattro pesci Allora Te li fai bastare E che gatti scappano Vi hanno rotto le scatole E dargli da mangiare Comunque i miei cani li riconosciano Il collare giallo Li hai già cambiato? Sì Vorrei dargli il collare ciano Ma non lo trovo Cioè il ciano non so come farlo adesso Mi serve il blu e il rosso No il blu e il rosso posso fare Il blu e il rosso posso fare Guarda che è pieno di fiori In casa nostra Ma il ciano è complicato Vieni bel gattino Allora color miele Questo è il gattino Che ha sempre voluto fare E gli diamo pure il nome Che gli voleva dare Ovvero? Oliver Anche se io gli ho sempre detto Che Oliver è il nome Per un gatto nero Secondo me Non color miele Però lei è fissata Secondo me color miele Devi chiamarlo Cookie Che è l'altro nome Che lei vorrebbe darle Ah posso fare la cittata estrema Perfetto Te la voglio spiegare sta cosa Aspetta Sto inseguendo il gatto Shiftando e scappa lo stesso Vorrei capire Perché mi odia così tanto Intanto lo spiego Ok Tanto ormai l'hanno scoperto tutti Quindi è inutile Che ci giriamo intorno Questo seed È particolare Punto L'avete capito? No gatto No è morto? È caduto da solo No Mi ama Mi ama Ciao bel gattino Andiamo Forza vieni 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 Miau miau No gatto No gatto Allora Vieni vieni Dovete fare il parkour gattino Ti prego eh Cioè se un gatto non sei un cane Ti sa arrampicare Su 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 dai Dai da bravo Andiamo bello Miau anche a te Forza 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 Non dovrei evitare vero? Forza forza Volevo uno stile Nino Camille Però questi abbiamo qui E va bene così per ora Ok Se vuoi ti faccio dire una cosa Ok Non so perché è sparito il gatto Potrei fare un fail Potrei fare un fail incredibile raga Allora L'abbiamo accampita quella cosa lì Certo che mettere tre gatti Un cane in otto metri quadri ragazzi È veramente indecente Allora promettiamo che facciamo la casa Lo promettiamo Vai dentro Forza gatto Ah tu stai al piano di sopra Perché sei superiore ai cani Bravo Bravo sediti qua È davvero andato al piano di sopra E che bellino che sei Vai ti lascio stare anche nel mio letto Hai visto? Top Bravo Sì 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 Miau anche a te Miau 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 E Aspetta 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 Una cosa importante Vieni con me un attimo Allora Qui Io ho messo questi Quindi Possiamo fare Non è Saiyan Ma almeno è blu Miau Meglio di nulla Ma tu non li hai fatti entrambi gialli Ne hai lasciato uno rosso Eh sì Quello lì è mio Quello lì vicino a me Quello lì è tuo Guarda basta che fai così Ok Vabbè gli ho cambiato il colore del collare Easy Perfetto Allora aspetta che rimetto il blue dye Giù Prima o poi farò il Saiyan Promesso raga Ma fino ad allora Ci arrangiamo Il Saiyan è il colore più bello di mai Dimmi quello che vuoi Il mio primo cane Era Saiyan Andiamo Ti faccio dire una cosa Allora potrei fare un fail incredibile Potrei fare un fail Allora in chat mi hanno detto che non è un fail Ok Però potrebbe essere incredibile Ok Allora come ben sappiamo Aspetta hai un letto con te? Sì Ok Possiamo andare Allora vai No ma tanto è solo qua dietro Allora praticamente questo sit abbiamo capito che è simile a qualcos'altro Ma non diciamo niente Ok E mi ricordo che io ero arrivato da qui perché qui a 99 c'era qualcosa sotto Adesso Fail Non era qua È qua vicino Me lo sento che è qua vicino Ok È in questo È in questo È in questo Ma forse è qua Forse è qua Aspetta Prendere 99 qua No qua non è possibile Oh qua raga Me lo sento 99 qui è 9 Qui c'è una miniera abnorme E io ad un passo non sono caduto e morto Allora ragazzi ve lo ricordate dov'era? Non me lo ricordo più dov'era Qui c'era un tesoro maglino Te lo ricordo troppo No non mi ricordo dov'era Mi dispiace Steph Scusami se ti ho fatto perdere il tempo No no tranquillo Mi è piaciuto questo momento Io resto sempre sveglio fino alle 23.17 Sì ma è d'obbligo Cioè una giornata non l'hai vissuta Se non stai sveglio fino alle 23.17 Cioè avevamo i diamanti Lo sapevo me lo ricordavo Tu mi hai fatto andare a morire per due ore Ma te l'ho detto mi devi andare No io ero già lì Mamma mia C'è anche un quadro dell'oceano lì Sì Ok Eh vabbè Niente Nessuno sa niente Non abbiamo fatto niente Non Spieghiamo Perché ormai così sembra anche peggio Così sembra che lo stai citando di brutto No no diciamo Il seed È quello della Big Vanilla L'avevano capito tutto all'inizio Quindi abbiamo pensato semplicemente Di fare l'hardcore All'interno della Big Vanilla Ovviamente non ci sono costruzioni né altro Perché È il seed puro Quindi proprio Il mondo di gioco Alla radice Di conseguenza Appunto Sapevamo Cioè Marci sapeva Che io non mi ho stai ricordato Neanche per sbaglio E lui si ricordava Di questa location E quindi Ha preso il tesorino Allora Non c'era niente di chi In realtà Da parte tre diamanti Ma tanto ce l'abbiamo Sì beh 12 diamanti Non cambiamo E questi li butto qua E questi li possiamo buttare qua Il cibo pesce Lo possiamo mettere qui No i diamanti Ragazzi Si fanno Il ciano si fa Con il cactus Che andiamo a prendere Vediamo se lo troviamo Allora intanto Qua ci sono Le canne da zucchero Ah beh Le canne da zucchero Le canne da zucchero le prendo Non ricordo Io faccio Vai dimmi Perché abbiamo messo Un blocco di pietra Allora Non vuoi litigare di nuovo Vero? Ok Io vado a fare Un po' di Come cavolo si chiama? Ce la posso fare Cosa? Un po' di Di grano Perché dobbiamo aumentare Le mucche Dato che ci serve la pelle Fine da storia Bisogna mettersi lì per forza E farmare Farmare Quanta pelle ci serve? Uno No aspetta No almeno tre No tre di carta E una pelle Dovrebbe essere Non è tre di pelle E tre di carta? No ti stai confondendo Con la Con La bookshelf No La bookshelf Sono tre libri E tre di legna Esatto E quindi confondo Tre per quello Dici? Sì sono tre di carta E un pezzettino di pelle Che io avevo peraltro La pelle Giusto raga? Pa 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 Perché la pelle Ne abbiamo tipo sei A casa Ok Torno a casa Che dormiamo peraltro Ok Facciamo queste Facciamo queste Facciamo queste Facciamo queste Facciamo queste Così posso dar da mangiare Sia i maiali Che alle mucche Faccio e vediamo La pelle è sotto Giusto? Sì Vediamo un po' Se mi ricordo giusto Ma dai Io ho l'invento Che è super pieno Te lo giuro Ole Allora E' il momento di fare una casa Palesemente Sì assolutamente Il gatto dorme qua Come dicevo io Un libro Poi L'ossidiano e diamante Lo faccio il tavolo? E beh Direi proprio sì Dovrebbe essere così Il libro sopra Oh yes Fatto Questo è un passo avanti Importante Senza ovviamente Bookshelf Perché Come facciamo? Dovremmo fare in realtà Forse ci conviene Aspettare per fare Un incantamento Un po' più Oppure ragazzi Facciamo tutti gli incantesimi Da uno E li uniamo Eh ma guarda che Bookshelf possiamo farcela Perché comunque Abbiamo un po' di pelle E Farmare un pochino di carta Non è difficile Possiamo spettare Sono Guarda che sono Tre di pelle Per una Bookshelf A noi ce ne servono Tre Sei Nove Do Tipo Non dico uno stack di pelle Ma quasi Eh Beh però ci sono tante mucche intorno Mi preoccupa a quel punto Forse più la carta Va bene Vediamo Proviamo a far tutto E cominciamo a metterla Cominciamo a metterla qui Vediamo cosa uscirà A livello 30 Dobbiamo dormire Grazie agli anichi Arrivo subito 33 di pelle Servono Ho messo il letto sotto Vai sto dormendo 33 Facilissimo Il problema è che Servono quindi 100 di carta Esatto Ma la carta Basta fare la Adesso la faccio subito Guarda Vado a fare la La farm Mi svuoto Due secondi L'inventario Aspetta Le cose pezzi Sono messe qua sotto Due secondi Le ceste Vedo Un lupo Un lupo Che attacca Uno scheletro Bravo Bravo Ti do questo Tu sei guadagnato Tu quindi è tuo Figurati se Certo Il domestico È il primo Non sia mai Allora Più ne vado a far fuori mucche Vai vai a far fuori mucche Vadi vadi Non ci incischi Che bellino anche sto gatto Io voglio un siamese Se riesci No In questo In questo villaggio Non sponano Che schifosi Già E i siamesi Mi sa che sponano Nel Nella neve Dicono 48 Infatti mi sembrava Più 48 Raga Che 33 Vabbè Non mi spavento Ho visto tante mucche In giro Cioè in età 48 è veramente tanto Però Molto Tu pensa alla carta Io penso alla pelle No Facciamo un altro barrel Raga che dite Così ci possiamo fare Eh non abbiamo il legno Però mannale Le cose più basilari Giorno 13 Avete ragione Campioni Raga Non male che me lo ricordate Ah questa cesta qua sotto Raga Facciamo Proprietà Giorno 13 Let's go Bravi 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 Cosa mangi stasera Boh Come sempre quando faccio le live Io Non so mai cosa mangiare Perché finisco tardissimo Qua ci sono anche i primi cavalli Però non abbiamo trovato selle Quindi Nulla di utile Ma il cavallo non dà sempre ladder No Mi sa che il cavallo no E sono i lama Che ti danno la ladder Adesso ho il dubbio Sai che penso di sì Penso che come dico io No ma può essere Però Penso ho detto Però non sono sicuro Ho il dubbio Ma perché ti ho detto Col cambio di versioni costante Hai sempre il dubbio Che sia Un vecchio aggiornamento E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Sono d'accordo E' incredibile Ho sistemato bene le chest Non è da me Sì anche i cavalli Anche il cavallo ha da ladder Sai che Io sono sicuro Ero sicuro di no Incredibile Adesso ne ammazzo due Se non me danno neanche uno Ti arrabbi con la chat E beh Far fuori dei poveri cavalli Tanto non mi piacciono In sto colore Mi scusi Steffa si è trovato tutto Incredibile Oh raga ma manco Manco mezza dei ladder Raga lo so che Steffa Ha ucciso Lorenzo Infatti pagherà Non l'ho ucciso Pagherà Si è suicidato In realtà non pagherà Perché possiamo fare lo spoiler Vabbè tanto lo sanno già Beh ho condizionato la storia Lorenzo Junior Solamente che mi hanno detto Tutti una cosa Ma io te la dico adesso Non sono certo di questa cosa Mi hanno detto di chiamarlo Signor Maialino Ma io mi ricordavo Che il signor Maialino Era un pipistrello Con la faccia da maialo Mi sbaglio Io lo confondo sempre Quindi mi potrebbe pestare Anche me Veronica O è un maiale Vestito da Mi pare che sia un maiale Vestito da pipistrello E non un pipistrello Vestito da maialo Diteci lo vuoi in chat raga Perché io Io te l'ho chiamato Signor Maialino Però ti ho lasciato Una name tag Ho scritto Lorenzo Junior Quindi puoi scegliere Tu cosa fare Credo sia così Delle mucche Lo sappiamo raga Però le mucche Vorremmo bridarle un botto In realtà Guarda quanto grano Che è salito No beh si capisce Quando il grano È fatto in realtà Sì però Comunque È entrambi giallo È un solo Che uno un po' più Tendente al marrone Uno più giallo giallo Quindi comunque Un po' ti confonde Rispetto al passato Sì vero 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 Io sai cosa faccio adesso Le mucche In realtà Le porto a casa Così le possiamo Ehm Condividiamo Ci sono delle mucche Delle vicinanze Un maialino È sicuro Perché ci sono Questi inutili Maiali Ovunque E non ci sono Mai mucche Ma quanti maiali Ci sono Maiali Chicken Scusa Polli Fine Polli Polli È in cappi Ce ne sono tante Ehm Altri polli Ah guarda qua dietro Che c'è un bellissimo Una bellissima pianura Io mi sono perso Non te volevo dire Allora Aspetta Cerco mucche Cerco mucche E mi sono perso Uh quante mucche Uh quante ce ne sono Le porto a casa queste Vieni da me Ehm Meno 144 400 Ehm Sono a 226 770 Potrei avere Quattro mucche Da portare a casa Potrei essere A 800 blocchi Da te È un piccolo problema Si Vai a villaggio Ehm Mi sono perso Mi sono perso Completamente Guarda l'indietro ragazzi Perché Non posso Guardare in avanti Che bello Qua dall'alto Guardate che panorama Bello bello Dopo andate dove c'era la vecchia Dove c'erano le case Nella big vanilla Eh dai lo facciamo poi come cosa Andiamo a vedere il posto Tutto spoglio Ma non è molto lontano No ecco Questo che è il villaggio Che utilizzo io Per rubare i villager Fini vicino Sì sono tipo Ok Allora Teletrasportati Raga è un hardcore Non si cita nulla Non citiamo niente Eh Credo di dover andare Verso questa parte E coordinate il villaggio Li ammazzo o no Io lascerei Perché se ti viene bedomen Al villaggio È un casino No 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 Non uccidilo assolutamente No il villaggio Bedomen Raga Siamo morti Praticamente E il problema è che C'ho quattro pillager Che mi puntano alla balestra Eh lasciali perdere Ci apprendi E scappa proprio Li stavo per attaccare prima eh Mi hai bloccato Poco prima della morte Tu fai bedomen Avendo la casa Sì sì lo so Arriva il ride Arriva il ride E se ci betchiamo Il ride di livello 5 È un casino Beh vai Stai chiuso in casa Alla fine Eh no Devi ucciderlo Perché sennò Ti rimane sempre il ride Devi sconfiggere il ride Eh pazienza Facciamo 100 giorni Chiusi in casa E usciamo da sottoterra Che te devo dire Quindi ti dico solo Che sto portando Quattro mucche nel recinto E potenzialmente Ci siamo Devo continuare Verso questa parte ragazzi Oh vedo il villaggio Entrate tutte per favore Entra Entra Perché vedo tantissimi polli E nessuno che fa le uova E non c'è Non c'è Non c'è Va entrate Su Stiamo per forza Incastrati Queste due Uno l'abbiamo perso Vabbè Vieni qua Quasi giorno 14 ragazzi Appena dormiamo Manca poco Manca poco Guarda quante belle mucche Entra Entra campioncino Riesci a chiudere la porta da dentro Per favore Da fuori Si Ma ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma non ce l'ho fatta Eh Fatto Ok quindi Uno Vai 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 Fate le mucchine per favore Se poi riesci a dare colpi ben precisi Magari usa nascia Puoi direttamente killare le mucche adulte Ma dici subito? Beh son tante Almeno qualcuna la può uccidere Che succede? Niente Io Tutto ok Vado a suggerire Religione Che domani mi interroga Buono studio Religione Allora Avete colonizzato un villaggio Beh si bene o male si eh Abbastanza Avete ragione Avete ragione Io comunque canale a zucchero ne ho portato altre 18 E andiamo a piazzarle fuori È l'unica Fammi vedere un po' Come le pure me Tieni Vado subito a piazzarle fuori Pelle ne abbiamo sette Al momento Non voglio tanto No si tu non dormi È entrato in casa? No ci ho provato Ci ho provato Aspetta che non ho ancora capito Ti ho detto di no Ok è scappato Possiamo dormire Non si può dormire Facciamo una scherza Marci che lag Però l'hai letto Ti piace Nitro Molto 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 Ok Il mio telefono In realtà In realtà io ti dico Avevo pensato che al giorno 15 Avremmo iniziato la casa Prima della live L'ho pensato Il giorno 15 Inizieremo la casa Probabilmente Beh era preciso allora Vado a fare legna Perché non abbiamo legna E devo aggiornare il giorno Giustamente Se dormo Poi si aggiorna il giorno In effetti Proprietà Giorno 14 Devo dire che Stiamo andando Si procede bene In una live Ne facciamo circa 15 Di giorni Quindi 15 30 Dopodiché per 45 Sì 60 Quanto fa 15 Per 5 Le tabelline 15 75 Poi 90 Sono Tra le 6 Tra le 6 Le 7 live Dovremo andare un po' più lunghi Nelle varie live Per farlo in 6 Altrimenti sono 7 live Ok Beh comunque Non morire Su minecraft Per 7 live Di fila Ragazzi Non banale Non banale Assolutamente Ho avuto un attivino Nel momento Di botta estrema Che stavo guardando Il vuoto E stavo camminando Riflettendo Il fatto che avessi fame E che Avessi fame in gioco E nella vita reale Nella vita reale Il problema è quella Della vita reale Quella in gioco Si risolve più facilmente Ho l'altra canna da zucchero Da prendere Dove metterete L'enchant in table Con i libri? Eh raga Penso che la stima No Quando è che facciamo la prossima live? Venerdì Venerdì faremo una casa Fighissima raga Sì venerdì Andiamo di casa pesante Zone recinti Zone coltivazioni E quindi si fa tutto È la cosa migliore Infatti Sto iniziando a formare Un po' di Un po' di legna Sto cercando le canna da zucchero Ne voglio un botto Però non ce ne sono tante Tanti zombie si sentono Ok così Trovate la nederite Beh Beh Può essere Guarda che Trovate la nederite È una cavolata estrema Perché tu vai nel neder Scavi sotto Non stai vicino ai pigli A nessuno E via Diciamo che è comunque Un rischio Aggiuntivo Non necessario Ma oggi abbiamo già preso Un gran bel rischio Aggiuntivo e non necessario Quindi Non escludiamo Anche quel rischio Esatto Lo stavo per dire Probabilmente Quello che abbiamo fatto oggi Era ben più pericoloso D'andare nel neder Ok Poi questi Così Ok sto formando Legna Per un bel po' Perché non possiamo Star lì ogni due secondi A dover rifare la legna No infatti Hai ragione Prendiamo anche questa Sai azzone Sai Ma che dici Prendo un po' di Prendo un po' di Di sabbia Per il vetro Eh Beh per farla calda La prossima volta Tanto ci serve Quindi Puoi Velocizzare i tempi Iniziare a prenderlo Allora Sì Non so perché Buddy è diventato Un criminale Sono tutti fissati Che è stato Buddy No no Ma secondo me Buddy non ha fatto niente Dai No no Ma io so chi è Però lo si vedrà Nel video di venerdì E quindi non spoiler Perché io non lo so Anche voglio saperlo Dai È presente quello Che ho fatto nel video Quello che è già stato ieri Ah tu da lì Hai scoperto Sì Cioè Molto probabilmente Però Diciamo che Le coincidenze Io non ci credo Bella faccia ha trascorso Più di 400 giorni In hardcore Porca miseria Bella faccia comunque Ha una serie Di Più di 100 episodi Mamma mia E ha una Guarda che ha un mondo Bellissimo Proprio Wow E beh direi Se ci stai dentro Per quel tanto tempo E ragazzi L'hardcore Se sai giocare bene a Minecraft Alla fine È più una questione Di non distrarsi Più che di Chissà quelle skill E infatti è difficile Giocare tre ore di fila Senza distrarsi Cioè Non è proprio banale Due stacche di legna Non trasformata Potrebbe bastarci No Secondo me no Eh anche secondo me Sono purtroppo D'accordo con te Speravo mi dicessi di sì Solo perché Non avevo più voglia Vabbè Spacco la L'ascia di ferro Tanto tra poco si rompe E quello che esce Esce Quello che non esce Non esce Comunque quei diamanti Extra che abbiamo Probabilmente ci converrà a fare No c'è la split Ho la spada Sì anche Ho fatto anche la spada Vediamo Ci dobbiamo ragionare bene Ha commentato Buddy Ha detto Ma perché tutti pensano Che sia un ladro Eh Non si sa Non ho capito Da dove arriva questa teoria Però si sono fissati Tutti che tu Assieme a Kenoya Hai rubato Sputacchiotto Tra l'altro dicono In una live No ma io Guarda che In live non penso Vabbè Farebbero una cosa del genere Sì bene Ragazzi Se lo fai in live Ti vieni back out Ma avrei avuto Due miliardi di commenti Su quello Questo periodo Quindi In live secondo me Non è vero per niente Ok Basta Ho preso Quasi tre stack Di legna non trasformata Quindi Per ora Ce la facciamo bastare Allora Se faccio la strada Al contrario Forse riesco a prendere Un po' di alberi Che ci stanno A un certo punto Ripiantare Non è mentre ho fatto Altri tre di pelle Trovando mucche Un po' in giro Così piano piano Continuiamo Allora Vediamo Alberelli Alberelli Guarda quanti Alberelli Adesso ragazzi Piantiamo tutti Facciamo una foresta Alberellini Una cavolo di foresta Facciamo 23 alberi Io ti dico Vorrei trovare Del cactus Eh chissà Dov'è un deserto Da qui eh Ho assolutamente Bisogno di fare Il ciano Per forza Non c'è un altro modo Di fare Solo con il cactus Il verde si fa solo Con il cactus Eh per forza Eh si non esistono I fiori verdi Sarebbe un po' strano Un fiori verde Grazie Nico Sì raga questa serie Sarà solo Unicamente in live Magari vi caricheremo Qualche highlights Ma non penso Vediamo Tacchete Tacchete Da me Probabilmente Almeno l'episodio 1 Rimane visibile Proprio su T-Poc E quindi Lo potrete recuperare Poi vediamo I prossimi episodi Lo so Vedete già Allora Aspetta Però i farmer Non è che vendono Per caso Il cactus No Chi è che vendeva I cactus Raga Eh c'è un NPC Che vende i cactus Porca miseria Non mi ricordo Sì era raga Lo ricordate voi Luca se la farà Il martedì Sì teoricamente Dalla prossima settimana Dove essere Martedì e venerdì Le live Di questa serie Devo decidere Invece che giorno E la settimana Far la big vanilla Ti devi togliere Devi toglierti Non puoi entrare In questa casa Guarda Guarda Vedi È chiuso per te È chiuso Vai via Allora Ciao cani Ciao gatto Però non avete nomi Quindi Ah il mercante ambulante Allora Che spona Raga Sì vabbè Quell'ora che spona Ciao Un po' di fortuna Ma si fa anche con i cetrioli di mare E dove sponano i cetrioli di mare Raga Non mi ricordo Dove c'è il bioma caldo Immagino Guarda che ricchezza Questa cesta Accidenti Di sotto non posso sponare I cetrioli Vero raga Nella barriera corallina Eh raga Quella barriera corallina Non penso ci sia Grazie Laura Per essere ti abbonata Grazie ancora a Nicolai Sì Quella è lama Lo scrivono tutti Eh sì Lama Però anche la barriera corallina È vero Ma non mi ricordo Si esponano veramente Nel mentre 10 di pelle Ne abbiamo raggiunti Ferro 48 solo lì Altri 40 qui Incredibile Ok Dobbiamo dormire No non ho letto Devo venire a casa Mannaggia Mannaggia Volevo prendere la barca E fare un attimo Un'esplorazione veloce veloce Sei molto lontano? No no Sono qua lì Polli Le piume Le abbiamo messe qua Ok 11 Bisogna mettere a cuocere Questa carne Dove cavolo abbiamo il coal Lo abbiamo qui Prendiamo giusto questi 14 E mettiamo a cuocere un po' di bistecche Dimmi quando dormi Non è ancora notte Ma sai che mi sa che manca un po' Sì tipo un minutino Allora Sto pensando Sto pensando Sto pensando Ti 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 Sì forse possiamo dormire Non capisco perché non mai No campione devi andartene Hai capito come fa? Bravissimo Arrivederci Vuole morire Vuole morire questo E' morto E' finito E' morto Dopo tre giorni Il meme è finito Si può dormire Finalmente Ragazzi Ragazzi sono 15 giorni In tre ore Eh Eh Non così semplice Penso che siamo tutti d'accordo Assolutamente non semplice Assolutamente Ah ma qua c'è dei maialini I maialini che si bridavano Con le carote No con le carote 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 Vado a prenderle E li brido subito Oh anche qua Si che poi Sono banalmente Pura carne Cioè i maiali sono abbastanza inutili Però almeno facciamo un po' di carne L'ho messo il giorno 15 Giusto? Si l'ho scritto subito Perfetto Allora Eeeh Nel pane non lo mangio ancora Qua è cresciuto Almeno questo Ah anche le patate raga Non lo sapevo Ah Anch'io Gli ho sapevato le carote Papapapapapa Papapapa Profilisco il grano Anche se sai che le patate Non sono male Come cibo Quando le cuoci? Si non è male Si ma infatti io prefisco sempre la carne Nel possibile Eeeh Si anche quelle patate Vado a pezzare ste cani da zucchero Sta mucca più che portarci a dentro casa Facciamo così Un altro di pelle L'abbiamo fatto Piano piano Facciamo tutta la pelle che ci serve Fiamo tutto piano 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 Allora Hmm Sto pensando cosa fare Perché abbiamo pochi minuti ormai Cioè bene o male ci fermiamo tra poco Si E quindi non mi posso avventurare lontano Iniziare a costruire la casa Non ha senso Qua la farm l'è già fatta Bella bella Che è perfetta Tututututu È bastato tutto Nella barriera corallina Comunque dicono Che è pieno di cetrioli Eh ma la barriera corallina Non penso sia qua vicino Controllo Grazie Nico Si ci vediamo anche stasera Non penso che sia qua vicino Grazie Ungheretti Andiamo giù Io sto girando a caso Da due minuti Adesso vado a vedere In tutti C'ha anche 9-9 Se c'è un tesoro A caso No scherzo Non lo posso fare Sto guardando un pochino di mare Non so neanche perché Non mi sono fatto una barchetta Però non la provo Però lo farò anche Di andare con la barca Uh Forse c'è qualcosa Non lo so Perché c'è un cavo di drone Quindi Speravo ci fosse E' per esempio Quelle micro costruzioni Sott'acqua Stai mega attento Perché? Perché T'ammazza Se becchi quello col tridente Sei morto Si quello col tridente Sabe un problema Però non lo vedo Quello col tridente Quindi sembra tutto ok Eh qua c'è tutto Un canyon Sott'acqua Si non sembra Una zona Molto pacifica Questa Ho visto un garetto Ho visto È stato fighissimo È stato Ho molta paura Evita di magari Non moriamo Alla terza ora di live Sarebbe triste Abbastanza Allora Dai Forza Dimmi che c'è Un minimo di legna qua E mi faccio una barchetta No Vivrò qua Non so più dove sono Perché devo fare queste cose? Non lo so Ambro Arrivo io in salvataggio Ma non so dove sei È quello il problema Ma sei andato dietro Verso dove ho trovato Quella cesta segreta? Ma non so Sono A meno 270 130 Sì vabbè Stavo morendo affogato Ti vedo Vedo la tua barchetta Anche se non vedo te Eccoti Salve Non ci sono tipo Relitti qua in zona? Ma non ne ho visto Un relittino Ci starebbe qua Relittino Vai dentro La mappa del tesoro Sì uno strategico al volo Aspetta che forse No Sembrava Non avesse caricato Tipo il monumento Qui vedo però Magma block Mi sa Ah Non so se viene attaccato Quando la barca Fa il rumore strano Tipo No penso che È semplicemente Il magma block Sai Eh qua spawnano Un botto di Droner Credo Sì c'è Quella micro costruzione Lì c'è una cesta Di solito Eh allora Eh sì ma non conviene Andar giù Se ti becca Quello altrimenti Sei morto proprio Te lo dico Però ci sono quelli Normali eh Perché li vedo Cosa hanno in mano Sono tre normali Vedi tu Cioè io Non rischerei Ti dico la verità Perché quelli lì Veramente se ti Beccano Perché possono spawnare Comunque Da momento a questo Sì da momento All'altro Spona lo so Sto scendendo In super velocità Mi mangio Una mela d'oro Se vedo Che spona qualcosa Ok Ho rischiato Sappio Fatto Fatto Allora C'era una chest Ho lootato al volo Iron nugget Mappa del tesoro Niente No Però ho trovato Un'ascia di gold Con smite 4 Ok Golden leggings Protection 1 Niente di che E allora se renouce Sai cosa fare adesso Io ti do tutto E poi ci fai quello che vuoi Guarda Allora Però mi sono rinuovo Ho perso ovviamente E anche io sto girando Un po' a casa Per vedere se trovo qualcosa Che paura quando fai Do 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 I magma block Sono terribili Io ho un delfino Sotto di me Che mi Eh raga Un relitto Anche poi sai che c'era il portale Lì Dove lì sotto Sì Ah Boh non so se conviene farlo Ma dimmi dove sei Eh io sono al relitto Eh Meno 200 Meno 150 Meno 200 Arrivo Mappina del tesoro Mappina del tesoro Vuoi vedere che è quella Che abbiamo entrato prima Sto male Te lo giuro E beh potrebbe essere Ok Tante poi sono Poteto Pumpkin Cactus No sto per un danno Guarda che stare in acqua è terribile Stef stavo morendo Lo so Perché sono convi Ero convinto di essere con la Con acqua finiti come ho nella Big Vanilla Mamma mia Devo andare verso sud Quindi qua Mi hai preso tutte le ceste Dì già Sì erano due Mamma mia ragazzi L'ansem è venuta Ti ho perso Vedimi le coordinate Meno 200 Meno 200 Meno 200 170 Devo andare verso sud Mi sto andando da Verso da Meno 200 A meno 100 Sto andando Ho fatto un app In mezzo all'oceano Sto andando lontanissimo Io sono andando verso Meno 200 Meno 0 Cioè 0 proprio Dovrebbe essere questo Il punto dove c'è Ti ho trovato Mi hai visto? Sì sì Ok allora vado verso Un coso segreto Dovrebbe essere questo qua Sì Tattatà Tre ore raga Appena fatte Adesso prendiamo questo E stacchiamo dai Dimmi che è un letto Non ho un letto Oh my gosh Allora muoviamoci Se diventa notte qua È finita Ok mi si sta Prendo la mappa Può essere sott'acqua No no ma Sott'acqua È sempre in una riva Eh infatti Ecco ce l'arriva Cosa ti Ti dico quella Quella cosa Sì ma ci arrivo Al champion Su rocket Raga dai Poi ce la faccio L'altro giorno Era in live Cioè diamante 3 Divisione 4 Perso Infatti abbiamo perso Contro dei champion Ah che bello No È quello che hai già preso Ma siamo Siamo a casa Sia Era quello vero Vabbè Almeno Almeno Alla fine Non l'hai citato Non l'hai citato Ora l'hai fatto Totalmente legit È giusto così È giusto così Che tristezza Io voglio trovare un altro Sì Un'altra cosa E invece no Torniamo a casa Carini carini Le mucche ancora Non sono cresciute Peccato Secondo me però Passo già di dargli da mangiare Vediamo al volo Così almeno Le mettiamo lì A continuare ad aumentare Questa armatura Io te la butto qua Poi facci quello che vuoi La pelle È qui Mu 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 Che casino eh Porca mia Mu mu Ma Mi hanno un po' zitte Le mucche Casiniste Ok Dai davvero Non potete ancora mangiare Allora non vi do grano Arrivederci Mi dispi Qui facciamo così Però qua manca una cosa Te lo dico Cosa? Facciamo subito La manca Va qua 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 Vieni Ah così puoi andare Sia dai maiali Che dalle mucche Dici? È giusto no? Eh beh Ok Bello Dormiamo Così facciamo Un giorno in più Esatto E siamo al giorno 16 mi pare Sì Sì 16 Beh Buonanotte Beh Mica male Proprietà Giorno 16 Fatto Ed eccoci qua Bene 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 Raga Direi che ci fermiamo Esatto È stato impegnativo Mi sento sopraffatto Le mie energie sono praticamente definite È stato bello Abbiamo rischiato Ci siamo presi Un sacco di rischi Però È stato figo Quindi Sono contento E raga Continueremo Venerdì Quindi venerdì Continuiamo A giocare L'hardcore Prossimo episodio Chiamiamoli episodio Prossima live Facciamo la casa Quindi teniamo questa posizione Facciamo qualcosa di molto Molto più grande Abbiamo già una buona parte Dei materiali Quindi siamo messi Abbastanza bene Dobbiamo poi allargare Tutte le Le zone per gli animali Fare le zone di coltivazione Insomma c'è molto da fare Diciamo sotto questo punto di vista Però Iniziamo ad essere messi bene E soprattutto Quando poi facciamo una nuova casa Facciamo la zona degli enchanting Ci baffiamo Come si deve L'armatura E inizia a diventare Tutto un po' più semplice Lato Lato rischio morte Mettiamola così Che secondo me è importante E basta Niente Andiamo a cena Buon appetito a tutti Sto morendo di fame Noi ci rivediamo stasera Ciao raga Ciao A che ora arrivai? Alle 21? Alle 20 e 30 Quindi tra un'ora di pausa Tra un'ora Tra un'ora ci rivediamo raga Ciao 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 Ciao